La possiate vedere tu? Nooo Prendi una cosa, tu parla pure È morto quello che ha creato E' Quasi Magia Giorni Chi è? L'Arm Ha 60 anni, aveva poco Non lo so, si chiama Izumi Maggiotto Vediamo un po' se adesso va bene Purtroppo stamattina Twitch ha più problemi del solito Che del solito vuol dire che ce n'è un botto, quindi Marco, ma che fai? Mi prendi in giro? Va bene No Moro, hai notato qual è la coperta? Non so, l'ho notata qual è la coperta Quella doveva essere la mia coperta L'ho lavata ieri Moro Profuma un casino Ma io non capisco Io non capisco come si fa a sbagliare Cioè, l'indirizzo Ok, possono far confusione Se hanno l'elenco dei nostri indirizzi Ci sta che sbagli No, ma anche quello che sta succedendo a me oggi Cioè, è possibile che sia di là Vedrai che non ti arriverà mai Eh no, vatti, ma non ha senso Sono arrivati due pacchi Delle robe che ho ordinato su Amazon Che dovevano arrivare venerdì, tra l'altro Anche mio fratello doveva arrivare Però un po' Antoine, così, ragazzi Doveva arrivare roba lunedì Ma basta, questo telefono Allora, questo qui io già so cos'è E infatti, wow Anche Gatto c'ha problemi con la maglia Ma è un problema di Twitch Sì, è proprio Twitch oggi Prima di partire con Raft Ma è tanto Siccome il Twitch ha anche problemi Più l'inghiava migliore Fammi vedere che bel pipozzo Questo è il sake Il sake Il sake, il whisky Ma è giapponese, quindi il sake No Intanto i whisky giapponesi dicono Sto già sudando io Sì, sono molto buoni i whisky giapponesi Dicono Allora, se lo fare molto bene Sia birra, sia i vini Sia cuini Lo sai che se lo giri dietro Non vedo l'etichetta Mi sembrava l'olio O l'aceto Ah, più aceto Più aceto L'olio, no Il tenjaku whisky È l'olio di semi Poi lo Perché a me non piacciono il whisky Proprio se fosse stato un sake L'avrei preso Non sto sudando, ragazzi Lo rimetto nella sua pratica confezione anale Come si mette Come vai, Sgu Ciao Fabio Ciao belli Ciao a tutti, bellissimi Questo, molto bello Dopo me lo bevo per pranzo Io faccio pasta, ragù e whisky Poi c'è un'altra cosa Io ho ordinato la collector di Indiana Jones Blu-ray 9,99 tutti e quattro i film Ma non hai già prendermi con la claviglia No, l'artiglio che strazza panna Andiamo a cambiare 46 minuti Grazie Pier per i 46 minuti Ma che cambialo, che lasciamo A parte che io non mi ricordo neanche più già come si fa Figurati Marco Che aveva dubbi Ma io perché ho problemi di memoria Non mangi il pesce Marco Come no? Non cotto Adesso stava dicendo stronze le censuratissime Ah Gli amigabri Mi sono arrivati Alexa Mi ha arrivato Ancora Mi è arrivato Alexa Anche questa è a 19,99 anche oggi Sì Quella lì penso di sì La RAM Eh ma tutto è arrivato già Sì La RAM Mi deve arrivare il monitor E un'altra roba La RAM Che ragazzi Se la volete 50 euro 16 giga di RAM Ma c'è ancora? Ma Moro Quanta RAM hai sul tuo PC? 16 Credo che basti Sì A questo punto ne prendo un'altra Discord Giusto? Guarda ce la vuoi prendere Ti conviene farlo alla svelta Perché sta per finire Ma quali sono? Qual è la RAM? Non la vedo La RAM è questa Le rimetteranno Sicuramente C'è il link C'è nel file Le rimetteranno sicuramente Il file lo trovate comodamente Mendo Amazon No cos'era? Sì era Amazon Sì c'è che abbiamo una media di tre spettatori Io adesso Beh Sì Quasi come le mie live Così qui sono le cuffie Che ho preso per la Ramonza Che sono le Raisin Kraken X Che in teoria dovrebbero avere un buon microfono A differenza dei Dei vecchi Dispositivi Razer Delle vecchie cuffie Razer Dovrebbero essersi Migliorati un po' Dovrebbero essere leggere Carine 39 euro costavano Ma non costano più adesso Moro Cosa? Non salite? È vero La tastiera invece? No no Guarda a destra Marco La tastiera Com'è che si chiama quella di Mark? La sua è la G513 mi pare Però non è in sconto Non è in sconto C'era in sconto La mia è la 413 Che è solo rossa Non RGB Che a me non me ne feca Qui potrebbe andare bene È ma 86 euro Costava Io ho lasciato rosa La finita subito Comunque Ce l'ho rosa Ho tenuto rosa io Dai Vabbè Amici in sti giorni Se ci arriva roba Ve lo facciamo vedere Sì sì io vi faccio vedere tutto Se mi arriva la mattina Non ho comprato un cambio Apro Rafto Grazie Ivan per il tuo 46esimo anniversario C'era anche Bokrim prima Che non ha Bokrim 34 mesi Non l'ho sentito Forse perché stavi cambiando le situe Grazie Bokrim Grazie mille Bellissimo Grazie dov'è? Grazie anche il Bazinga Perché non ora? Perché non ora? Il presente Bazinga Grazie mille Sta a vedere che lo devo scaricare Mi ero scordato Non è possibile Per chi ha problemi di live Provate a togliere Non ti sente se hanno problemi di live No magari sì Perché non è che li crasha subito Però provate a togliere Niente come ho detto Allora ne ho bushi Ne ho bushi Ne ho più sushi E faccio prima partita Poi vi faccio vedere il gioco Eccoci qua Personaggio Lascio sempre bella fissa Personaje Io non mi ricordo come mi chiama Personaggio mi chiamo Trombetto Vabbè tra l'altro Deve arrivare in romano Di un gioco E' bello che è partito da Roffittarò Quindi dove Roffiera Praticamente vicino a Milano Deve arrivare a casa mia Che è praticamente A 30 km da quel posto lì E adesso è a Firenze Vabbè Probabilmente adesso lo manderanno in Sicilia E poi tornerò qua Eccomi qua Ok ho creato il mondo Adesso ci penetriamo Ma forse ci possiamo penetrare Infatti Però sei offline Eh aspetta Eh non so Tericcio Non so cosa stanno facendo Magari non è destinato a me Però a me hanno dato qualcosa Sbagliato Sono proprio off the line Vedo l'ora di iniziare Questa avventura nuova Luca Grazie Luca Beh oggi sarà molto Uno dei giochi che mi è piaciuto Oggi sarà molto monotono Perché dovremmo raccogliere Un sacco di roba Ok Amici ci siamo Come si fa? 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 In caso recuperate l'impasto Poi La sorderrata Non so se può essere quello Eh sì che quello Non so perché Comunque È una cosa che ci tengo È una cosa un po' improvvisata Perché è da un po' Che ho ricominciato a giocare Però ci tengo E mi piacerebbe che me arrivasse Io Pierre Voglio ammazzarmi invece Ma magari vedo di sistemare Con qualche scambio Non credo che c'entrano Penso che i serverarmaggiori In Twitch siano separati Siamo in una zattera Di 4x4 Ma raccogliamo la più rara possibile Ma non Perché non ce l'ho io il gancio Come l'altra volta Che bug Ehm C'è il gancio io Tu puoi entrare Cioè uscire di entrare Magari Dezzarcela Grazie Grazie di Dium Grazie di Dium Era successo anche la prima volta All'altra volta Ehm Ah ma l'inizio veramente Non si può fare un culo Almeno allargarla un attimo Eh ma Pierre Ma che sensibilità incredibile Sai che dipende tanto in che gruppo eri Ho visto che in alcuni gruppi I giocatori erano andati bassissimi In altri Completamente fuori di testa Per una volta Devo abbassare la sensibilità Di un gioco No ma mi ha sbruzzato Niente ragazzi Io non ce l'ho Me lo dovete creare voi È già lo squalo Cosa serviva per farlo Fa vedere Faccio bollare Plasticati Grazie Sentilla Amici siamo tornati su Raph Che bello Perché non vedo le webcam io Oh Chi lo sa Ok Eh allorevole anch'io Picc'altro io ho fatto la cazzata Ho preso un sacco di giocatori a troppo E quindi sono rimasto con metà squadra Il mio problema non è stato neanche quello È che ho speso troppo per la difesa Anch'io La difesa e due attaccati Un barile di parella Marco Eh arrivano un sacco di barili Non l'ho preso Lo prendo io La corda Ho preso dei giocatori della madonna In difesa Ma avevo già la difesa Io non c'era bisogno Grazie Gibo Grazie Gibo Grazie Gibo Qualcuno del gruppo F Io scambio Ronaldo probabilmente E voi direte Perché ma si schermo Perché tanto adesso non gioca No no ma non me ne frega niente di quello Perché Ah ti ho detto Preferisco che se lo fa adesso il Covid E non più avanti No è che voglio Non voglio avere due attaccanti uguali Eh Giro io ho speso Ho speso 35 per Gosens Che ne può valere Ma io ho speso i 21 per Gosens Eh Li può valere anche 30 taccini No forse un po' troppo Grazie Blaviken 1,50 euro E c'è un caffè per voi Mentre la tende di essere ricevuto dal giudice di pace Ma stiamo Che devi fa Eh deve essere giudicato Dovrà Dal giudice paciere Allora il martello da costruzione Ho 16 assist Ah io posso già farlo Assist di legno Ok io ho già fatto il martello Inizia ad allargare Eh aspetta mi serve la legna Però l'allargare Ma che musica incredibile l'hanno messo tra l'altro Ma è Minecraft questa musica Ma è molto più La droppo qui la legna No ibrano l'ho preso Rancio Ho preso La roba da l'antra Non raccoglierla Non sapevo mica i cosi Ah beh che arrivano Che sprechi Sì che sprechi il gancio C'è un'isola là Ho preso le assi Ho sbagliato Comunque perché stiamo facendo Raft Perché appunto C'è il Capture 2 Sì c'è il capitolo 2 E almeno così abbiamo anche i salvataggi Per il capitolo 3 Sperando che non siano 10 capitoli Che finirà tra 20 anni Se no Poi So come vogliono portare avanti Però più che altro Ne avremo la partita Sì Poi partiremo da lì Non è che lo rifaremo un'altra volta A meno che magari Modifichero l'inizio E allora Poi io personalmente Ci giocherei Veramente Vabbè sì Questo sì Sempre Mi piace un casino Ho fatto una delle mie serie preferite Perché è proprio rilassante Sono d'accordo Beh la prima live così Adesso sarà un po' noiosa Perché sarà solo raccogliere roba Beh magari Ma è un po' rilassante No Ma quello sì Però non ci sarà Una vapa Che alla fine farmi Stai raccogliendo Stai costruendo Porca di una puttana Manca la legna Ma te l'ho messa qui La legna Ah non l'avevo vista Allora adesso posso Anche io ne va Che è anche la plastica Però anche Tieni Ti dà anche un po' di plastica Eh Vabbè plastica adesso Eh tieni È un barile di porcelli L'affanculo stronzo Eh dai L'appenato Possiamo fare Questo barile Ci sono i nani La puntella La pestora Marco ci serve No la puntella Fate la puntella Se no Andategli un pugno Con la cadrega E non si può fare Marco Allora mi faccio la lancia Aspetta Per il cano blu blu Eccola Allora invece mi butto Ragazzi No mi serve la corda E la barca come la fermiamo Scusate Non si ferma Non si ferma Io vado Cambiamo sul bus Ananassi Eh gli eserai delle corde Eh no Niente proprio Devo farle Aspetta È vero che si fanno con le ali Non c'è un cazzo qua Dove siete Siete là Eccole qua Non ci lascia Per buttare giù la pippa Ragazzi posso difendermi È fantastico È meraviglioso Tiritiritiritiritiritiritiritirititi Devo ancora vederlo io Il 2 Il 2 a me ha fatto schifo A me che l'ho visto sull'aereo Mentre andavo in Giappone Forse era un po' Mezzo intontito Però non mi è piaciuto Non me lo ricordo In effetti Non mi ricordo neanche l'1 Però a me L'1 era molto L'1 mi è piaciuto tanto Mi pareva... forse è piaciuto anche il secondo, non mi ricordo Come era piaciuto altro A me è piaciuto un sacco il primo E ho detto non vedo l'ora che esce il 2 così lo vedo E poi è uscito lui Vorresti essere in grado di fare l'ancora Ostia, più che altro non abbiamo spazio dove metterla ancora Piezar, vuoi altra legna che fai in altro po'? Sì, sì, esatto, legna plastica La plastica ne ho due, te la do lo stesso Ora tre Questa ora Stasera amici tra l'altro c'è l'orrorità Fasmo Sì, con gatto Domani non ho visto il sondaggio Rapidamente Non lo so perché corner non stava benissimo Non so se c'è Più che altro se non c'è anche corvo rischiamo di No, corvo non c'è sicuro Stiamo per ora 8 sì E anche esplitati insomma Vediamo un attimino come siamo messi E poi decidiamo Meraviglioso Dopo l'optano hanno detto che c'era meno inquilamento in mare No, no, era una bugia ragazzi Poteri fortici Gli azarpendi qua, le robe Ma che musica rilassantissima La musica Quello ho dovuto abbassare la sonno Sì, è altina Però Ho guardato ieri i Lego Movie su Netflix Ah, mi sono rotto il gas Ma il dubbio è bellissimo Poi vabbè con i Lego puoi fare veramente quello che vuoi Avere comunque è molto carino È molto molto figo Adesso tra l'altro a novembre deve uscire una nuova serie di Lego Star Wars Proprio nuovissimo Sì Però mi ispira un sacco L'avevo visto anch'io Prendi gli altri Cosa do io? Che bella plastica mi serve C'è un sacco di legna ma zero plastica Massimo fate Among Us domani Sì Allargo ancora pochino Poi per ora mi feno Non serve allargarla troppo all'inizio Secondo me è invece sì Io voglio per pescare No perché altro dobbiamo fare prima le robe per il cibo Marlo Appunto Peschi e poi leggo Eh peschi Prima le robe per cuocere dico Vabbè ma tanto quello serve per coltivare Non ho perso una di cibo in realtà Quanti barilli che stanno arrivando Io c'ho due anni andasse due rap Io barilli non ne ho presi quindi non ho niente Eh questo attacca adesso eh Vieni qua forza scemo Ah tra l'altro c'è l'opzione tempo tra una traccia musicale e l'altra E nessuno brevemente lungo il massimo No io metto nessuno voglio che parta subito Quanti barilli? Metti anche i tumbaro nessuno Ma io l'ho abbassato tantissimo Ma peccatemi Eh lo so ma dopo un po' ti assicuro che diventa Eh ma cambia eh? No ma cambia sempre Adesso sei addirittura interrotta Ma poi riparte No ma devi togliere il tempo di pausa se vuoi che parta subito Ma è partita instant Oh ho una rapina Adesso ho tutti i mani in alto Quello è una persona e sta prendendo il barilla E quindi passo l'altro Io sono master gancio Marco Master gancio Master gancio Questo arriva a dove? Ah l'ho preso io ho visto Certo Una patata ragazzi È una patata bollita Niente cibo Niente cibo Proprio zero Osteria Dagli la puntella Pestoralo Tittiri Tittiri Pistello Voglio io Tittiri 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 O di disco È fatta calcio Non fa pagarlo E Grazie Axley Per fortuna che ci siete voi che mi tirate su di morale Axley Che è successo? Tra l'altro tu sei in gruppo con me Axley Ti devo rubare dei giocatori No non lo so Non mi ricordo neanche chi è Sto ricercando tutte cose Non so se lo dovete fare anche voi Non credo perché Con la scomma degli oggetti Dei bavili Puendetoli Cuivio È per tutti eh credo la roba lì Eccolo Ho trovato una barbabietola e spinass Allora Contenitore piccolo Non c'ho più i rotami Beh avete plastica? È un botto Lieza Non è vero ne ho sette Però volevo costruire roba io Ragazzi io invece farò una piccola torcia Pasciate Ah sì Prenditela da Marco Io la mia non te la do Allora Però il vaso di coltivazione piccolo è piccolo Ma ragazzi aspettate Ma Come si faceva per Apprendi ecco qua Ah ma devo apprenderle però L'ho prese io L'ho prese io L'ho prese io per tutti Bravo Sì sì l'ho prese per tutte Lo solo ricercate le ho Ma quello che abbiamo visto comunque un paio di immagini da quello che hanno aggiunto Sembra una roba fighiss Ma che cosa? Di quello che hanno aggiunto Io non ho visto nulla Io ho visto nulla Io ho visto un paio di immagini Qualcosa eh Eh Ok fatemi fare il vaso Grazie due pippe Pippe? Sì io lo chiamo sempre due pippe Ho fatto una canna da pesca intanto Grazie mille due pippe Allora il vaso di coltivazione servono i rottami Eh C-Max l'ho pagato troppo ma lo volevo E ne servono quattro Tu ne hai? Non ne hai immagino perchè potrò la crafting table No non ne ho Blizzard te ne hai i rottami Franz Bruni grazie mille buongiorno Grazie Franz Dovendo uno che sta poco bene Anche se negativo al covid Oh Eh Beh meglio così almeno dai Eh dai Almeno dato sei negativo Te ne sei tolta uno almeno Ma io sto morendo di sete ragaz Nel periodo ci sono anche gli acciacchi del tempo C'è anche l'influenza normale Mangiando qualcosa mi sa che riprendevi anche un po' di sete Duratore semplice mi serve un asse di legno veloci 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 e rapidi Anche io sto volendo di sete C'è una raffa eh comunque Sì vero Una patata Una patata bollita E un'altra l'hai messa nel buco Tra l'altro Blizzard poi dovresti Perchè c'è il martello dovresti sistemare i punti dove morde il valore Eh ma guarda a questo punto faccio prima che me lo spawn Veloce veloce Meraviglioso Dobbiamo fare anche Devo fare anche quello per mangiare però La griglia Un rottame Sei assi Mi serve legna Però io No è una mare io direi Vieni qua Arriva eh mi sa che c'ha la faccia da pinz E noi Poi per ora direi che non lo allargo più Andiamo un attimo Faccio da pinz La faccio da pinz Il poverino Che suolo è E che stato Ah avete messo giù le cose Vi metto le rapanelle No sto volendo di sete Intanto vi cuocio questo Sono rallentatissimo Come si fa per la sete quindi Ah eccola lì la tazzina Si dovete crearvi la tazza Come camminate buffi Ah aspetta Come camminate buffi Contenitore piccolo E' una carottata E' una carottata Sapevo io Rottame Posso già creare l'antenna Vabbè quella si farò Dopo Quanto me la mangio sta Amici ma Quanto ci vuole per Eh ci metto un pochino all'inizio Ok Allora Allora Il copo finale E' una storia Il copo finale in realtà Lo stanno aggiungendo Quindi Ma scusate ma l'acqua Non l'avete riempita Si che non è riempita E no è vuoto Ma ce l'hai il bicchiere? Che no se no Ma io l'avevo riempita scusa Se l'avete ritolta Metti tazza di acqua salata No ma scusa Ma qualcuno l'aveva presa allora Ma che l'avevo messa sicuro Allora Io ho bevuto No non ho bevuto Ah ho bevuto Era l'acqua salata Abbastanza Jack E' un botto Ma un casino proprio Vabbè in realtà C'ha la lore eh Se te lo spiega perché è così Però in realtà non è che Perché tu lo togli dall'acqua qui Promuove il fatto di pulire i mari Ma questa è acqua pulita Per sopra così viene però Mi metto a pescare io Esatto niente vabbè La killa killa Eh diciamo che ne è almeno un altro dell'acqua Sì dovremmo fare almeno due Almeno un Due Due Dovremmo coltivare anche però Ho preso un pesce ragazzi Cosa mi serve per coltivare la corda Guardate come lo tengo schizzinoso Guardate come lo tengo schizzinoso il pesce No che schifo che schifo Che schifo Ma è piccolissima Ne faccio due di coltivazione E' lì azzar le dimensioni non contano E' una zattra di lava intanto non possiamo navigare però Siamo prenderci la Saluto Maria Aspetta No sto per voler di fame Aspetta vediamo Ti metto il pesce Aspetta che cuocia questa qui Ok Eh non abbiamo abbastanza Lucky 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 Luke Lucky Lucky Luke La mettere a cuocere però intanto Ho bisogno di acqua dolce ma porca di una puttana Ok Poi puoi metterli Farmi non sono Allora Metto il pesce Metto il pesce Intanto Cazzi cazzi porchi troi Dov'è? Ok Eh questo Questo Eh servono i barili per i rottami Sì Io di rottami ce ne ho uno No aspetta intanto faccio una lucetta per la notte Ci mancano solo i rottami No in realtà il depuratore ci manca solo la plastica A me per esempio Eh lo posso fare io ragazzi Eh un altro depuratore lo farei L'ho fatto l'ho fatto Aia ma mi ha mozzicato subito l'infame di uno squarlo Ragazzi non lo posso mettere giù Che cosa? Ah no devo farlo un po' più distante Aspetta Non me lo fa mettere qua Che cosa? Ah vabbè Eh facciamo mozzicare Fai un po' più di Sì no è che non ho plastica Io c'è Io dovrei Fa vedere Ne ho tre Oh va cari vaaaaa Qui ho bagnato tutte e due Sì Allora questa ma bevo Da bevi? Ma bevo E me manior pappone pure qua Ma come da bevi? Sì Ok il barile di barilla Ciao Gabri Buongiorno No trovame Si serve sempre il rottame Post it Ma che schifo ragazzi Sono caduto Postarlo Subito eh mi stava mangiando il bus Sì Che bello questo gioco È veramente rilassante Ah È già cambiata la serie Gabri Minecraft ormai finita Patata criuda La pianta La pianta Due mesi due Poi ci vediamo all'estate prossima con Minecraft Sempre se aggiungono cose Se quell'aggiornamento è interessante Ma l'hai messo al contrario il depuratore questo qui Può rompere in teoria no? No no ma va bene Eh serve un altro cosa del cibo proprio che se no E' una merda Eh aspetta forse lo posso fare Manciati sto pu Ok Ma completa non credo Hanno messo il capitolo 2 Non si sa quanto saranno Ragazzi che sfiga però Devo mangiare io Si è? Lo squale No il pintollo Marco Coglio il pintollo Ma sono lento A 6 Bravo Marco Ma come mi brontola la pancia Mamma mia Sono un rumore coltivo Oh monica E anche a me sta Ho messo anche a coltivare un po' di roba adesso pian piano Si no ma infatti il problema di questo gioco è semplicemente all'inizio Si dopo diventa tranquillone Poi tutti i soldi Un po' più raccogliere la roba da sotto la barca adesso Sotto la zattera Oh un po' di rottario ho preso Fammi mettere questo Ma Ma tra l'altro ragazzi fatemi pescare perché le rapoli non danno un cazzo Dovremmo farci la griglia per i pesci grossi Eh me la griglia qua la si fa da un bel po' Oh dove stanno i barili Mi servono gli ottaggi C'ho da Da fare quale cose Posteriamo un altro dell'acqua e abbiamo una testa Perché non dovrebbe Liuk? Ah si l'abbiamo fatto io Magari non funziona adesso eh Magari io l'ho Vabbè se non funziona adesso non lo sappiamo siamo in live Eh ci manca cibo però Almeno io non ho niente da mettere Aspetta che ho preso due pesci questo Ma la rap e le verdure piantatele però C'è questa qui cotta comunque gli ezzar Eh beh io sono posto adesso Metto due pesciolini E' più o meno a posto Guarda forse è meglio che me la mangio La metto anche qua così Ok adesso sarò un posto pronto Poi dobbiamo iniziare a fare le regi Ezzar fai questa parte di legno Eh c'è un problema Eh Andiamo a sbattere Ma no Eh Siamo ragazzi giovani ce la faremo Mi serve un pesce subito che sto per morire Devo bere Devo bere No ma ah forse è buono Non lo so Yuki ma che non è andato a bere ieri Ce la trovate subito Allora Eh Acqua Cosa stavo dicando Facciarti quelli che arrivano Ciao Franci Ho franzato per terra Fatemi riempire il bus Ho riempito Ho riempito Ah hai riempito tu Sì E per fare le reti come si fa? Adesso le facciamo Tanto Abbiamo le abbiamo studiate Magari non Eh col martello tanto sono quelle Ok adesso abbiamo un depuratore a testa Allora Allora qua E uno di scibo a testa Il reti Volendo c'è il retino Il retino ci sarai tu? Stronzo Eh no Deciditi Ragione No ok lo scriviamo Tanto Bellicainus Ok Ma io mi chiamo Alfonso Signorainus Che l'ho cambiato Sì sì ti chiami Alfonso Signorainus No Ma l'ho missato Non è vero Ma io voglio andare su quell'isola Oh pop la miseria Petto E' lo squalo Non abbiamo la pisella Marco Per fermarci L'ancora? Eh sì Cosa serve per l'ancora? Fa vedere Eh ma ci vuole ancora un po' eh per l'ancora Inforzo profondamente Non ce ne frega un cazzo No come si fanno le Le costruzioni del cacchio Devo mangiare puttana vacca Va a farle i retini Qual era il mio compito di solito Dopo le faccio Ragione I retini E i retini dopo è Il problema che costa un sacco Quindi bisogna No Oh mio dio Ma è terribile questa cosa Fatemi pesca Ok Fatemi pesca Per ottami Io mi chiamo Io sono sempre Bella fissa Sono Io ho trombetto nella sguardo serie Io vado ragazzi Qualcos'è Ma non fa intento Non c'è più cazzo Non c'è più cazzo Ragazzi mi ho pescato un canarì Un coso Un piccione Ma ragazzi lo metto qui Sì guarda Tanto lo squalo non c'è più ragazzi No Ti metto qui che pesca con me Ora vado anch'io Tanto poi lo squalo se lo mangia Quindi Arriva lo squalo Arriva E' quattimento Ma che è sta schifezza L'ho pescato Non lo so C'era anche l'altra voldov Non serve a niente Oh mio dio L'ho già mangiato E' incredibile E' una preda Ma stai fermo Eh si è già attaccato all'uccello Si è detta così sono male Ma che cazzo stai dicendo Eh si ha mangiato l'uccello lo squalo Ah l'uccello Lo sistemo io l'uccello Appena l'ho messo proprio E' anche il tempo di darmi un po' di tempo Ok Ha bisogno di acqua dolce Ma come si fanno gli aretini? Ah li faccio Non ci preoccupa Ma mi sa che bisogna trovare il cosa eh Cosa? No non bisogna trovare il progetto Bisognerà studiare al massimo le robe ma L'ho studiabile L'ho studiato Eh non me l'ha dato Ah no ho messo giù la Ragazzi sto mettendo un po' di pippi Vediamo dov'è Questo anche dobbiamo fare Serve il vetro Allora fatemi mangià Questo rettino Allora come fai il chiodo? Eh il chiodo lo possiamo fare sì Dai imparale che poi faccio le regge Ragazzi mi si è rotto il pube ci sono due barili correte Vado Ma penso il problema Per un pede anche a me però eh Quindi non so Uno lo piglio Un altro non so Ehm Prendo È metà volontà Ora o mai più Oh mio dio l'abbiamo perso ragazzi Eh faccio i rettini dai Eh non abbiamo ai rottami per fare i chiodi sì Io ne ho cinque se volete eh Eh ma stavano una marea di roba per direti Eh ma bisogna Dimmi che sono morte e fan È vero che è comodo che se ce l'hai Non l'hai Non l'hai più Non è felice L'ho buttato a terra ma porca di una puttana Dopo riempi eh Ma anche dove? Lasciane uno Eh ero troppo tardi Ma dai ma perché li bevete tutte e tre? Uno a testa Eh ma non mi bastava uno l'ho buttato a terra Io lo sazio l'ho bevuto prima Eh per forza l'avete bevuto di tutte e tre tutti Ma no io li ho già riempiti ma mezz'ora fa e l'ho bevuto io Ma sempre E che sta nascendo un culo Ho preso due barili sono fortissimo Tieni conto che servono anche per annaffiare lì? Eh sì perché si vuole l'acqua dolce Non si può rompere questo e mettere come questi altri Che fastidio al cazzo che mi dà Allora la pagnotta ma vi ho io Mi metto un asse e mi metto a pescare Una pagnotta Una patata Vero Mi sembra sempre pane a me quello lì Oh sì E magno il pappone Poi Mi faccio una cassa io invece Farei una cassa Anzi prima faccio questo io Eh cofiuscia Grazie cofiuscia Grazie di 35 mesi Ah chomp chomp Arrivano un sacco di barili Piezar mi fai un'altra striscia di... Ce la fai fare un'altra striscia di... Dove? Se no faccio io il... Aspetta Eh ma perché la devo fare davanti Ma aspetta mi faccio io il... Il martello Pure io Poi allarga... Poi allarghiamo dalla parte della papera anche Guarda che lavoro... Guarda che lavoro... Guarda che lavoro... No me ne manca uno il fastidio... Non c'ho più... Alla doppio barille Eh... Stonks Guarda che stonks Guarda che stonks C'è un barile di porcelli Chi ci dà problemi stamane? Si lo sappiamo ragazzi Purtroppo Io ne sono l'esempio che non riesco a vedere una live per bene da una settimana Aspetta mi per fare le QD Mi serve anche legna Eh? Quanta ne vuoi Eliezer? Ti sto morendo di fame aspetta Quello non... Aspetta che... Fammi pescare Peppe Mellow Grazie mille per i due mesi Grazie per essere tornato da noi Ti vogliamo bene Oh e crescete queste cose qua Oh Dio mio ragazzi Ho trovato un pesce enorme Ma che cosa lo tieni? Cosa spari? Eh mi serve la griglia ora Un mitra eh Veramente un mitra Dobbiamo fare anche una cassa allora dove mettere le cazzate Eh la cassa la volevo fare ma poi mi son distratto con la luce Aspetta Con la luce Eh non ho plastica e neanche le corde Le corde non è un problema La plastica si Si Un po' la plastica sarà un problema Nel senso che ne avremo troppa probabilmente Se noi iniziamo a fare i rettini e tu Eh si quanta plastica serve Solo qua Che sarei tornato Grazie Peppiniel Grazie Peppiniel Ah che bello il caffè Solo a Napoli lo sanno fare E poi non è così Oh mio Dio lo sento eh Eh guarda beh Eh lo chiamavano bocca di rosa Metteva la bocca sopra ogni cosa Ma inizio fare C'ho mandato i rettini Metteva la mano Marco Vabbè fai niente Però gli ho dato una botta incredibile Fammi ricucire Ah devo rifarla a plastica ora Noi andiamo Che raccogli ste robe però Questa direzione Eh beh e non è meno di costruzione Ma mi mancano un sacco di assi E anche un po' di plastica Non c'è il soldo E li abbiamo buttati tutti a terra Anche qui Pesi Allora Pesi di Dozen Creek Eh ne faccio uno come due Dai rivoluzioni di Dozen Creek Di nuovo Anche schizzo Marco Eh raccogli quest'asse di legno cazzo Eh com'è che era? Ma basta un po' Ma io ti ammazzo eh Ti tiro la bancio eh L'ho ricastrato sotto Ah raccoglio Più onde ragazzi Ma c'erano anche prima ste onde alte? Un'onda incredibile prima Serve la plastica Ma stavo andando sott'acqua Che succede? Ma tu ci ha detto niente in merito Il mare mosso Ragazzi c'è un po' il mare mosso Non c'era mai stata sta cosa eh No non c'era prima Entra l'acqua adesso Questa è la news Ma il sole è rosa Devo annaffiare Ma già si arriverò in tornato E' a cuocere il cibo E' a cuocere il cibo E' a cuocere il cibo Mamma mia quanto balliamo ragazzi No con la notte no No con la notte no però adesso è un casino Ehi bestia No io ho messo una luce Però non è che basta Ma ragazzi ma è incredibile Ma senti anche il rumore del mare mosso Mi addormento ragazzi Ma è possibile che non c'è mai nulla di pronto? Ma ma giù tutto adesso Invece questa me la fotto Io no no Io ho preso niente per lasciarvelo a voi Dovrò ancora Questo è una corda Questo è un ruttame Grazie beast of smoke Grazie Non so se l'avete ringraziato Lo ringrazio Io non ringrazio proprio nessuno oggi Sono Dispettito Di aver fatto la cazzata ho bevuto l'acqua salata Oh scemo Non lo so perché Ragazzi mi metto a pesca Ma la griglia com'era per farla? Il barbecue Mi sa che ancora non lo vuoi fare E il barbecue c'è ancora Il pesce me lo tengo Dobbiamo fare una cassa Oh mio dio Ma che fa? Ma questo è passato così Ma è passato sopra la barca lo squadro Voglio fare il piano di sopra Mi sono Ma che adesso? Ma dobbiamo allargarla di brutto Ma no Vedete sono tra i materiali Dove faccio a farlo? Eh ma che pare con le onde non riesco a capire Mi sei quasi funnato anche UgoOh Pa Pa Ma gli è assoluto, non hai fatto ancora di così? Eh, è opposta, eh. Eh, è una roba così gratis. Ma quando c'è, scusami, cosa ci vuole? Abbiamo le chiodi che ce li ho, le corte che ce li ho. Adesso le posso fare un po'. Ve l'ho appena raccattata. Ragazzi, ho fatto una cassa. La metto... La metto... La metto qua. Oh, pesce. Grazie mille, Mechila. Grazie, Mechila. No, poi ho metto la fonte. Una montagna di vestiti da stirare. Almeno ci devo da compagermi in questa avventura pericolosa. Vai, siamo come... Oh mio Dio, ma hai passato sopra lo sguardo, eh. Siamo come una telenovella, quindi, adesso. Come una gata punta siamo, ragazzi. Mi serve... Corte. Eh, queste sono easy. E quindi, aliche. Ne ho un botto di corde, vieni qua. Ce ne ho l'infinito, io. Dove sei, Iliezer? Qua. Io qui. Da cosa ho buttato? No, la tazza mi hai buttato. E mi riesco l'infinito, sì. Grazie. Adesso, la tua tazza, che ci hai già bevuto, che poi... Ma vabbè. Vuoi vedi? Eh. Allora, chi posso fare? Fammi vedere. Ok. No, davanti ce l'abbiamo. Adesso possiamo anche allargare. Poi, il letto li facciamo più avanti con calma. Sto mandando veramente... Ma è un iso... Allora, la vedo io sbagliato o c'è la neve su quell'iso? No, è la sabbia, però la vedi un po' più luminosa. Ah, io mi sono rotto. Fammi pescare. Mi sono rotto. Non ne posiamo più... Buongiorno, Ancella. Dov'è un gancio? Oh, che bel pesce. Grazie. È una schifezza, eh, che ci mangia le robe, ragazzi. Ma forza, per sé. Spitolalo, spitolalo, Marco. Anche questo. Mamma mia, che stronzi. Che cille. Cretino. Ti metto il pannolino. Ti metto il pannolino. Mi si è rotta la puntella, la rifaccio. Mi serve il plasticamento. Allora, rifaccio... Pecora questa qui. Posso scarastaggio e due pesci. Lei è venuto qua perché doveva prendere del pesce. Adò, ragazzi, lost. Mi ha rotto l'altra cosa pure. Tompela tutto. Allora, mettiamo... Oh, pesce. Abbiamo tutto. Un altro pesce. Ok. L'hai fatto la cassa, dicevi, beh? Adesso c'è il pesciolone. Ma sei uno stronzo, Marco. Metti la dove ti pare, che vuoi. Eh, l'hai messa qui, te la mangia. Eh, ma infatti l'idea era di fare la striscia. Solo che poi ho dovuto riparare tutto il resto. E l'ho potuta fare. Ok. La metto... qui dietro il container del pene. Ma voglio avere roba per muovermi. Anche io dovevo mangiare. Non mi mangiate più, lasciatemi qualcosa. Ma è vero che c'è il programma di cucina di James May tra poco. Solo che a novembre c'è la PS5, quindi poverino non ce lo fila da nessuno, James May. E non sono tante puntate, me la guardo in live. Ma mi avete mangiato tutto. No, non ho mangiato solo il pesciolone. Io t'ho messo il pesce, ce n'ho un altro pronto se vuoi, però dovevo anche mangiare io. Però io. Porto che sto per morire. Fammi pescare. No, c'ho un po'. Devo fare un'altra cassa da mettere di fianco i fornelli. Abbiamo ancora delle corde, non è possibile troppo anche. Eh, si dovrebbero intrappolare. No, non ce n'è proprio che arriva. Ah, eccolo, forse. Proprio Sanpei, ragazzi. Pescatore con le sbebole. Puzzi di pesce, Sanpei. Un altro pesciolino da farvi. Non ho fatto se c'è qualcosa da poter controllizzare. Mattone, non lo posso fare. Pagaia, ancora monouso. E poi la banderuola. E poi la banderuola. E le faccio alle prossime volte, magari la banderuola e le vele. È proprio una banderuola, Amoro. Grazie, Mattia. Ciao, belli. Grazie, Mattia. Prem student. Oh, vedi. Grazie, Mattia. Grazie. Ah, ricordati, sei fatto prem students. Purtroppo per i prossimi due mesi non avrai la sub. Ok. Una nei primi tre mesi, poi la facciamare regolarmente tutti i mesi. Allora, rifaccio una cassa, che la faccio alla cassa del cibo, questa. Non ho la plastica. Non me la prende. Un bello, Cristian. Ho un po' di aliche, eccole qua. Quando poi c'è uno che crea un gioco da solo e lo vuole vendere su Steam, deve aprire una partita IVA? Se hai guadagni sopra una certa cifra, sì. Eh, quello lì ci pensi dopo. Per la partita IVA in Italia devi fare guadagni dai 5.000 euro annuali in su. L'ordine, ovviamente non è. Dai 5.000 in su. Sotto i 5.000 puoi non dichiarare. Ci pensi dopo ad aprirla, comunque. Prima lo fai, poi vedi. Cazzo, questo gioco è un successo clamoroso. Devo assolutamente aprire una partita IVA perché non mi ci stanno più i soldi in tasca. Allora te li prende tutti lo staff. Ah, bene, Cristian. I soldi in quel caso. Sì, esattamente. Un po' come a noi. Bene, Cristian. La pagaia ha senso? Non mi ricordo come funzionava. Ci si muoveva effettivamente? No, la pagaia serve per girare. Dirizionava? Sì, mi sembra. C'è la vela? Facciamo la vela, ragazzi. Eh, non so, Pia, se è possibile. Non senso? No, però adesso aspettiamo un po' di sistemarci. Adesso raccattiamo un sacco di materiale. Poi magari la prossima facciamo anche il piano superiore, tutte le robe. Io voglio allargare qua per fare i vettini. Sapendo fare tutto siamo molto più veloci. Ragazzi, il bolt come si faceva? Dobbiamo... Il bolt bisognava fare... No, col metallo fuso, quelle robe lì. Eh, quindi serve il forno cos'è? Sì. Che si fa? Non si sa. Che non c'è qui. Eh, quando vedi che i guadagni supereranno i 5.000 all'anno, Tinnos. Aspetta, forse è sotto. Ragazzi, puntella il pistol. La puntella, pistolacchieri. Usi l'anime. No, proprio la puntana qui. Lascia stare il retino, t'ammazzo. Aspetta che lo riparo. Le offerte di oggi nel file Amazon dovrebbero esserci già, no? Le offerte di oggi, ragazzi... Ma che non erano tante? Io non le ho neanche preparate per oggi perché le offerte che ho visto che andavano avanti oggi da... Però erano solo vestiti. Dalle cose che ha messo... A parte che c'erano vestiti però quelli appunto... Non è che faccio il referral link per un vestito. C'erano i Durex. Eh sì, c'erano i Durex. Oggi in sconto. Però c'erano... Cioè, non c'era nient'altro di particolarmente interessante da mettere nel file. Quindi non... E non l'ho fatto. Cioè, non l'ho fatto. Eh ma... Sono contento che vi siano garbati i consigli. Il G502... Marco, tu, il tuo mouse è il G502? Non mi ricordo mai. No, è 12? C'è scritto sotto, non lo so. No, 512 non credo. No, 502 era, sì. Ok. Il mouse di Marco. Marco, che è ottimo. È veramente bene, mi sto trovando molto bene. Allora, i primi tempi ci ho dovuto veramente abituare, mi sono dovuto veramente abituare perché ho usato sempre quelli della... Vabbè, tu Marco... Ero sì da ufficio io. Eh ma però mi trovavo bene ai tempi. Certo. Se non provi mai il meglio. No, ma in realtà tutt'ora che ho provato il meglio, comunque mi si trovava bene con quell'altro. Lo trovo comodissimo a livello ergonomico. Poi, chiaro, questo è un giusto in più, è una roba incredibile. Ma io, 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 io. Quelli sono un botto però di barili, eh. Carlettino, sei proprio un pistolino. Allora, eh... Ma mettiamo ancora Carlettino? Ma Aliezar, sta lisciato, non so come io, eh. Devo mettere, lo fare, lo barile. Allora, devo... Il 112 è la tastiera, sì. Molto bella la tastiera. Ecco, la tastiera... La sento tanto che... Diciamo, lo salto di qualità. Lo sento molto di più con la tastiera, con il mouse. Anche se, anche lì, non ho mai avuto grosse pretese, io per carità. Posso metterlo qui. Sono 60 maxirotoli di scotte... L'abbiamo messi, no, nel file, quelli? Sì, quelli li ho messi. Ah no, di scottex no, però. Io ho la carta igienica della scottex, io. Sì, che poi, appunto, per me conviene più l'altra, quella da 82 rotoli. Non è in offerta, però. È in offerta, mi sa, questa. Non è in offerta, però comunque vale la pena, perché sono 82 e paghi 29. Gli altri sono... paghi 21 su 60. Però è la carta igienica meglio, eh, questa qui. Ma scottonelle sono ottime, in realtà. Eh, queste qui sono quelle multistrato. Ah, avete mangiato tutti, sto morendo. Ah, non è vero. Se avete il culo particolarmente... Eh, appena. Ma l'ho messo nella cassa, li ho trucco da lì per cuocerlo. Stato, mi avete ricordato di mangiare per me. Non ci fosse ancora. Eh, non l'ha posto. Ma ragazzi, qua, devo fare una striscia, però io. Ma dove l'abbiamo messo? Ma perché avete messo un'altra rete da pesca qui, che ancora non abbiamo fatto? Eh, ma pian piano, non ci vuole tanto. Faccio io. No, anche io. Allora, Moro, dimmelo. Senti, ciò vuole costruire sul culo. Voglio vedere come andavi in giro con una casa sulle spalle. Chiedi a coso, al Pokémon, lì come si chiama, quello con la foresta. Eh, terrone. Non credo, Moro. Più o meno era così il nome, però. No, Carracoste era l'altra tartaruga, più o meno. Grazie, il gatto sul pudro. Ok, fatto un'altra striscia. Siamo belli in larghi, va. Grazie, Gambo. Oggi non funziona niente. Eh no. Cos'è Gambo? Gambo di squelo. Non mi sembra, però. Grazie, Gatto. Sì, comunque a me non funziona da una settimana, non posso vedere live, quindi. Benvenuti a tutti. Ma questo è un pistola. Viene a beccare sulle nostre cose. Ma tra l'altro perché si fanno uno sì, uno no i cosi qua? Perché teoricamente raccattano tutto, sì. Anche se vanno in mezzo raccattano. No, in mezzo ho visto che non ha raccattato quando si è passato. La maggior parte raccatta. No, vabbè, ci sta. I barili più d'altro. I barili solito vengono presi tutti, che sono grossi. Però sono un set da barman per sciacchierare e fare i cocktail e un mini amplificatore ad attaccare la chitarra elettrica. Se volete c'era anche un set sadomaso, eh. Devo mangiare. Ah, pensavo volessi. Il set sadomaso, che bello. Infatti, a me è venuto a fame proprio nel momento sbagliato. Che goloso. Mi metto a pescare un altro po'. Mi sa che la plastica, misericordia. Mi bevo anche bene. Adesso bevo tutta l'acqua, così ghezzarsi a rabbia. No, intanto se no. Mi metto a ballo. Ah, mio spano! Io sono stupo! Il pettore, Marco! Ragazzi, fatevelo anche voi. Non faccio il tempo. No, non faccio la barca di voi. Lo facciamo anche noi. No, non faccio il pettore. 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 Voglio sapere però cosa avete preso tutti voi con questo Prime Day. Voglio sapere i vostri acquisti, che io sapete che sono un tossico dipendente del comprare. Io ultimamente ho veramente il braccino corto, ma perché sto risparmiando per cose, per beni più importanti, quindi... La più importante è del whisky giapponese. Sicuramente sì, quello. Che cazzata, Marco. Chi è che deve mangiare? Che tolgo quelle che sono... Vabbè, le mettono nella cassa e magnatelele. Non posso metterle nella cassa. Vabbè. Non posso metterle. Allora, poi metto le rapanelle palle. Certamente, Marco. Metti pure le rapanelle palle. Con le patate. Con la patata. Che musica, che partita. Bellissima. Oculus Quest 2. Stranger Things un po'. Oculus Quest 2, ok, però. Di biancheria. Non credo fosse in sconto. Con l'Oculus. Dalle padelle. Un UPS, porca miseria, dove prenderlo anche io. Solo che costa una braccina. Allora, in realtà, mi servirebbe... Più che un UPS, mi servirebbero... Una ciabatta multipresa... Dei pesci enormi, ma... Meglio. Come facciamo adesso? Ma ragazzi, ma il pesce grosso dove l'avete messo? L'ho mangiato. Prima, Marco. Dove l'altra cassa, scusami? Ah, l'avete spostata. Come facciamo? Grazie, ce l'ho mezzo io. Cosa? Eh. Cosa hai? Davanti a noi. Eh, lo apprendiamo in pieno. Eh, sì. Prova che proprio ci sposta e andiamo fuori rotta. Ma non ti preoccupare. Non uso la pagaia, se vuoi. Vuoi che il gioco è così sbagliato da fare. No, no, ma è giusto, in realtà. Non è sbagliato. Eh, no, no. Ti puntelli. Eh, ma non ti puntella. Ti fa sbattere e ti muovi. Fammi fare l'ascia, allora. Aspetta. Prendetevi la pagaia. Uno di noi, facciamo la pagaia. No, mi sono fatto l'ascia che vado... Vado nell'isola io, intanto. Sola degli anus. C'è niente nel fondale. Quanto siete belli da 1 a 100? Datevi un voto. Da 100? Da 100? 100? Soprattutto ora che mi sono tagliato i capelli. Non l'ho neanche visto. Dai, 72 mi sembra giusto. Carca puttana. Eh, qualche. Eh, merda. Che botta. 3, 2, 1. Ma non dovrebbe rompersi. No, però adesso siamo bloccati. Vabbè, non importa, ci facciamo la pagaia. Almeno possiamo andare sull'isola. Aspettate, aspettate. Ma è esatto. Ma questo che vuole sempre a mangiare le cose? Possiamo prendere le robe e soffa acqua effettivamente. Fettiamo. Ragazzi, ho raccolto tutte le cose nuove. Le rinpingo. Ma non posso scrivervi l'SSD. Mostra l'SSD. Pierti come vede a prenderlo adesso. Ah, beh, beh. Sì. Però, considerate che qualche sconto ci sarà anche il Black Friday. Magari no, come adesso. C'è già un sconto adesso. Beh, se il cybermonde è più avanti anche. Beh, se il cybermonde è più avanti anche. Beh, se il cybermonde è più avanti anche. Scusa che mi ha cascato a terra. Io ho addirittura Sokira. Ando a buttare. Sokira, non so com'è. Lo zaino. Per portare più roba. Lo zaino? Eh sì. Anche è nuovo. Lo zaino. Però vi serve la pelle e la lana. Quindi dobbiamo andare su qualche isola a trovare i... No, aspetta, Metafor. Io ti consiglio di aspettare. Non prenderla al 2070, aspetta al 3070 o al 3060. Ragazzi, il forno per cucinare. Ma sai che non lo vedo? Eh, dovrei trovarlo. Eh, pepiniele, adesso... Allora, probabilmente... Non si trovava con... Ah no, fonditrice. Lo stai cercando. Mattone secco, ok. Per prendere il mattone secco serviva la sabbia. Bisognava metterla a seccare. Adesso si trova nel fondo delle isole, in teoria. Secondo me c'è meno roba scontata adesso perché è solo roba prime, ma con più sconto. Allora, gli sconti che ci sono sono... Che paura. Aia! Siamo? Aia! Sono tornati, che è completamente andato a merda. Non è colpa nostra, ragazzi. No. Eh, ma si vede che c'ha veramente problemi grossi. Ok, sì, siamo ritornati. Devo morire di foga. Tanto volevo rispondere, non mi ricordo qui. Ah, Pepp, mi ha detto se lo può... Mi sa che muoio io, eh. Sì, c'è lo squadro... Che dici? No, che perdi tutto, Moro. Eh, però tutto tutto. Vomita le robe, piuttosto. No, aspetta, vado su. No, sono morto qui! L'ho visto proprio in diretta e ti è saltato addosso. Ma potete soccorrermi, in teoria. Sto arrivando. Non ho preso set Lego, perché non ce l'è. Eh, no, trova il letto. Petercraft ha un letto al volo. Aspetta. Eh, non era difficile, eh. Lo potevo fare prima, quindi avevo cose a caso in mano. Quindi non penso sia difficile. Beh, il letto, però. Non lo puoi già fare. Trovate, trovato. No, mi manca plastica. Mi manca solo plastica. Ma di cacchio. Puoi buttarlo giù, credo, eh. Eh? No, trova un letto, mi dice. Eh, aspetta. Raccatto la plastica. Ma in molle. Ma ce l'ho la plastica, lì. Passami, passami. Quanto te ne serve? Basta, basta. Dammi qui, Moro. Ma porca bestia, mi sei caputa. Ma dai, io... Ok, riposati. Sono un piccolo sonno per una grande avventura. Amici, io ho trovato la... Ho trovato la sabbia. Allora. Scusami, era l'argilla. Non è la sabbia. La sabbia non l'abbiamo trovata. No. Siamo bloccati qua. Ah, io l'ho trovato. Abbiamo trovato anche un po' di rottami. Abbiamo trovato. Oh, sì. Grazie mille Cardellino. Sì, ne ho presi... Ne ho otto. Cosa devo dire? Grazie Cardellino. Ah, di Lego, che non c'è nulla in sconto. Quindi non ho preso nulla. Ragazzi, ma davvero non c'è la sabbia qui. Era solo edifice in sconto che fa cagare. Io ho trovato i nanoblock di un bassotto. Beh, i nanoblock sì, sono carini. Sono molto carini. No, non erano in sconto. Ci sono anche i nanoblock... No, no, ci sono anche i sedi grossi di nanoblock a volte. Io ero rimasta quali piccoli. Sono tipo gli edifici... E' alti tipo così. Tipo 30 centimetri. Ah, ok. E i nanoblock sono però tantissimi pezzi, sono. Eh, sì. Lego di vige no, a me non piacciono. Quali con personaggi singoli non mi piacciono. Prendete le alghe dai pippi, eh. Ne ho prese tre di alghe io. Faccio un giro sull'idolo. Che servivano per fare la colla. Lo slime, tipo. Lo slime, sì. Ma io ho preso della salve. Ma ce l'ho già? Solo, mezz'ora che meno... Aia, maledetto schifoso! E devo anche bere. Amici, è la mia fine. Adesso se arriva gliela tiro in pazzo a sto centro. Pagliaccio, vieni qui. Ma la X ce l'ho già, quindi non la prendo. C'hanno già un tipo, non ha senso che prendono una... Eh, non mi ricordo, beh, che costava sui 17 euro, se non erro. Devo bere assolutamente, vado lento. Perché non l'ho bevuto prima? Perché ho ammaffiato, ecco perché. Ho preso un sacco di fiori. Che cosa? Lo voglio. È il nanoblock del Bassotto, penso parlasse. Penso l'alasso, quello del French Bulldog. Ma c'era cassa. Che costava sui 17 euro. Quanta roba ho preso. Amici, mi è venuto in mente... Prima ho detto quasi Terry Bogard. Mi è venuto in mente che deve uscire l'amiibo. Quello lo devo prendere. L'amiibo di Terry Bogard lo devo prendere. Davide, proprio qui. Grazie, Davide. Grazie mille. Ho preso un po' di semi, eh, se mi servono. Sto giro, bene così. Barbietule spinasse. Un po' di semi, c'ho un ananas. Un po' di semi. Amici, serve un'altra cassa. No, aspetta, forse no. Forse no, qui dietro c'è. Eh, perché qua c'hanno i blueprint. Non lo so, come si usano i blueprint? No, devi usare nel tavolo del lavoro, aspetta, lo faccio io. Ma non mi pare. Ma non ti pare? Non era così una volta. Ma c'è, vi è? Andavi sul blueprint. È l'orcatto! E lei avete i stronz. È morto, è morto. Lo raccolgo. Se magna, regà. È tolto. Ah, sì, ho preso due carni di squalo. Eh, anche io ne ho presi due. Vorremmo fare anche un altro fornello. Magari li facciamo due file, tanto possiamo raccogliere. Guarda, aspetta, faccio io. È riuscita a creare una cassa. Ah, ecco, vedi. Per fare il mattone fresco serve un altro... C'è qua dietro dietro una cassa, eh? No, lì non ce l'ho proprio. C'è anche uno. E anche uno? E' anche uno? Ma porca miseria, ma dai. E ma è già piena sta cassa. Eh, ma che cazzo c'è nella cassa? Sì, la non mi serve, mi serve la sabbia. Ragazzi, aiutatemi a trovare almeno uno di sabbia. La testa dello squalo già la butto via, che... Bestia, che onda! Me ne serve uno di sabbia, almeno. Eh, ma dobbiamo muovercela qua. Non stavo raccattando più niente, però. No, come no? Sto prendendo di tutto. Eh, no, sì, ma non plastica, roba leggera che ci serve. Eh, vabbè, intanto per ora ce li abbiamo, finché duriamo. Eh, no, vabbè serve. Tu non ce l'hai mai la plastica, non so come è possibile. Eh, perché ho costruito gli retini. Ah, qua, non l'avete messa, però. O non l'ho messa io, non mi ricordo. No, io l'ho messa, eh, quindi. Tra l'altro devo mangiare, vabbè. La patata cruda, in caso se proprio sono in emergenza. Eh, non ho neanche più le segna io. Come no? Eh, no, ho scostruito, Mark. Eh, ma anch'io ho costruito. Eh, ma il ragazzo dice... Allora... Sono pieno io di legno, po', venti. Ma che vuoi da me, strunzo? No, ho buttato a caso, non so. La sabbia ce l'ho, sì, ne ho due. Posso fare il mattone fresco. Creato, ora lo faccio seccare. Qua lo faccio seccare. Allora. Ti, ti, ti. Eh, i blueprint, ragazzi, se qualcuno si ricorda, perché a quanto pare non era come mi ricordavo io. Ho trovato l'argiuilla. Il bolt l'avete trovato, giusto? Non l'avete craftato, perché non si può craftare ancora. Allora, l'ho trovato prima. Questa è la sabbia. Rottami... Cosa devo fare? Aspetta. L'ossigenazione del corpo è importante, ragazzi. C'è ancora roba. Una conchiglia c'è lì. Un vongola gigante. Non ce l'ho già serve, ma... Servirà a qualcosa. La testa a tenetela se fate il carburante in futuro. Eh, ma adesso non abbiamo spazio. Poi lo scuolo lo fermiamo. Sì, no, c'è tempo. Allora, vediamo quando si secca il mattone. Torno sulla barquetta. Amici, faccio altri tre fornelli? O li fate... Oh, non servono. Come non servono? Abbiamo una maniera di cibo già qua. Eh, appunto, bisogna cucinare. Eh, vabbè, me lo cucino con calma. Eh, vabbè, ma... Tanto cosa prende? Fai un'altra striscia, non prende niente. Eh, però spostiamoci da qua adesso. Sì, no, però spostiamoci da qua. Devo mangiare? Ma ancora? Ah, non l'ho mangiato. Ma porca. Ok. Intanto, la grandessa è ottimale. Ma allungherei un po' indietro. Fai tu la pagaia, Marco. Sì, magari allarghiamo qua dietro. Ci allunghiamo. L'altro, verso l'altro, la prossima volta. Adesso iniziamo a fare le fondamenta. Sì, poi venerdì facciamo... Facciamo il piano sopra. Bello grande, dove ci mettiamo magari la vela. Dov'è fare gli spazi anche per il radar. Sì. Inoltre, voglio fare bella grande e fare il piano secondario uguale a quello... Penso se in realtà adesso non ci riusciamo a spostare e dover iniziare la partita. Ma no, dai. Che è Tony! Grazie Tony! Grazie Taoni! Grazie per i tre mesi, ben turné. Sai che non sembra... Ci stiamo muovendo di un pelo? No, sì. Forse siamo spostati un po' verso destra, Marco, sì. Sì, dobbiamo spostarci un po' verso destra. Ecco, vedi, vedi, vedi. Bravo. Vai. Un altro po'. Bravo, con questo scopone. Ok, Marco, prova a dare... Ok, ci siamo, eh. Siamo anche qua da sinistra. Eh, pagliamo un po'. No, 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 no. Bustel kill, ma sei pazzo! Non ho fatto niente ancora. E si è girato di botto! Com'è possibile? Ah, beh, perché abbiamo preso lo cibo. Eh, però si può, beh. Adesso dobbiamo assunziamo il contrario. Sì, dobbiamo rigirare. Vabbè, le rettine prendono anche dietro tanto, eh. Non è un problema. Sì, prenderanno anche dietro tanto. Sì. Semplicemente le faremo anche davanti, poi, appena abbiamo i materiali. La pagaia la rimetto nella cassa. No, quella del cibo magari no. C'era... Lo squalo l'hai messo a cuocere, Marco, metterlo a cuocere. L'ho messo a cuocere. Ok. Poi ne ho mangiato anche già uno. Ah, ecco. Eh, ostaci, Max. Mentre un paio di barbarie. Però vedi, in questo caso noi non potevamo fare niente all'inizio, quindi... Il mattone si è seccato, che devo fare una roba in po... No, ancora no. No, ancora un po'. Siamo fuori rotta, però, eh. Mi sa. Siamo fuori rotta? Eh, mi sa di se. Siamo un po' storti, Sia. Porca, non sbaglio. Eh, c'è la pagaia nella pippa, se vuoi prenderlo. Provo, da. Ottimo la pagaia nella pippa. Adesso mi sto armando per fare delle cose belle. Dov'è? La pagaia è nella? Nella cassa. Quella non del cibo, ovviamente. Eh, c'è solo questa? Abbiamo sbindato anche qui. No, non è vero. Dov'è l'altra cassa? Una è di fianco al letto, di fianco ai cosi, e l'altro è dietro alla crafting table. Eh, sì. No, qui non c'è. Ma che dici? Non l'ha messa! Vieni, hai ragione tu, vieni. Ah, la roba, la palla. Sì, sì. La cassa, non trovavi. Mi sa come ho aperto la cassa e me la sono messa nell'inventario. Non l'ho messa nella cassa. Allora, io vorrei già iniziare a costruire il piano superiore, in realtà, perché la vela ci serve. Fate, 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 fate. Io sto facendo una roba bellissima, amici. Vi faccio una bella sorpresa. Allora, servono un botto di chiodi. Però dovremmo avere abbastanza ortami, ce ne abbiamo raccolti un botto. Quella patatina qui. Ce ne ho 16. Io ne ho assaggiate tante. Non credo si possa girare. Varie marche. Sono anche esagerato. In realtà, comunque, raccattano lo stesso. Allora, mi serve un botto di legni. Ragazzi, ho un botto di foglie. Ne avete bisogno? Non credio. No, mattone secco. Ciao, venga, buon lavoro. Devo bere. Sì, guardate come mi amerete tra poco. Siamo fermi, siamo o sbaglio? Non lo so, ci muoviamo veramente a culo di gallina. Ah, sì, la vela farà per forza. Ragazzi, io ho fatto il mattone secco. E studiatelo. Qui dovete anche raccogliere la roba. Io mi metto a costruire perché sennò... Mamma lo gammane. Andiamo da noi. Mamma lo gammane. Andava uno ogni due il palo. Ma scusa, Moro, per studiarlo... Lo metti nello slot. Ok, ok, ho fatto il palo. Guardate che bello. Lo feci, ragazzi. Servono le assi. Devi darsi l'offo. Eh, ne ho io un pochino. Ora, devo fare un altro mattone secco. Dobbiamo trovare tanta sabbia e tanta argilla, ragazzi. Vorremmo fermarci. Prendo tutto io, eh. Datemela tutta me, la roba. La plastica serve. Le scale servono anche per le scale. Eh, amici, siamo fuori dalla... Effettivamente siamo un po' fuori dalla striscia. Eh, vado a fare la vela. Anzi, inizio a creare la vela. Sì, assi di legno ce li avete? Sì. Ne ho 9 se vuoi. 10. Anche 20 in realtà. Ne ho altri 20. Giusto. Devo tenere un po' per craftare le robe che devo finire. La vela, la vela. Ho sbagliato. Vela. Eh, mi riservono gli assi. Mi ha rotto il pube. Vabbè, non importa. Ragazzi, adesso lo ammazzo. Dov'è? No, l'ho ucciso. Ah, si possono raccogliere. Sono pieni. Vai. Ti rimpingo tutti. Un movimento di legno. Oioh. Posso farlo, ragazzi? Ho finito la legno. Posso aiutarvi? Voi da qui, devo fare anche di qua. Dovevo saltare ogni volta. Ok, l'ho messi tutto. Ok, direi che faccio un po' di corde, perché ho troppa roba io. Anzi, no, metto la... Facciamo un'altra cassa per i materiali, ragazzi. Eh, ma anche altre due, in realtà. Ma si incastrano tutti. È la cassa più grossa, non la posso fare ancora. Dove la metto la cassa, dove vi piace di più? La metto sopra? No, metterla di fianco all'altra. Questa... Questa cassa qui. È di fianco o la vedo dura? Oh no, devo mangiare un guappone. Di fianco non se può. Metto di fronte? No. Facciamo questo di guappone. Io le sposterei tutte e due, in realtà. Le metterei da un'altra parte. Non c'è di tutte e due. Sotto qua, le metterei... Pensate. Una qua. Io le metterei una qua e poi sposterei l'altra e la metterei di fianco. Si spostavano? La X, mi pare. Avete un rotame? C'è la cassa, mi pare. Eh, ho già presi quella. Eh, allora no. No, sono un idiot. Hai errato. Ho avuto ancora l'acqua salata. Cazzi, metto le alghe nel contenitore. Metto blueprint. Spero qualcuno ci dica cosa servono, perché... Aspetta, fammi provare una roba. Vedo che la chat ha anche molto... Mi sa che ha un problema che la chat. Ricercato, dice. Progetto antenna ricercato. Quindi? No, ce l'abbiamo. L'antenna l'abbiamo... No, ho avuto via il blueprint. No, non te lo spreca il proprio. Se sia l'antenna che l'altro, mi pare. Eh, ce l'abbiamo anche il ricevitore. Quello forse non ce l'abbiamo, però. Qua, va a vedere. Ricercato. Eh sì, buttiamoli via. Prendono uno slot, porca macchina. Molto rischiare, ho voluto. No, Pier, la chat è molto fottuta. No, ma l'ho rotto tutto Twitch. Sì, no. C'è poco da fare. Amici, speriamo ci possiate vedere. Sicuri che non avete nessuno rottami? Controllate bene. Io ce li ho ai rottami, che mi servono per... E devo fare una cosa forse più importante. Eh, non credo. Devo fare il forno, io. Eh, io do fare la vela, se no non ci vogliamo. Sì, no, fa meglio la vela. Eh sì, mozzicami pure. Sì, me ne serve un merdol. Ah no, aspetta, non te ne ho uno. Gracias. Ok, fatta. Oh mio Dio. Scemo, cretino, ti metti il pannolino. Ammetto qua sopra? Mettila, metti la suco. Magari non proprio se la manca. Grazie, tuco. Eh sì, metti la lì. Oh, c'è lo cibo. Dirige l'orchestra. Vado a dirige la prima. Mi sembra ciibo. Cibo, l'ho appena messo. Siamo ancora, cioè siamo fermi. C'è pronto, siamo ancora vicini a st'isola. Basta tu. No, credo c'è un'altra. Un'altra, quella che c'ha gli alberi. Vattene. Parile, sta scappando. L'ho presi. Madonna mia, quanta roba cosa. Eh, Andrea, cazzo, Andrea. Grazie, Andrea. Ragazzi, se avete bisogno di plastica, va attaccate. No, non posso dare. Beh, c'ho le corde. Metto un po' di corde. La conchiglia la metto qua, che non mi ricordo a cosa servisse. Doveva fare i motori, anche dopo con un bel pole. Ragazzi, ci fermiamo da qualche parte, poi? Appena arriviamo. E che dovremmo girare, eh? Dovremmo cercare di girare la barca. Sì, mi sa di sì. Dobbiamo fermare che mi serve un bel. Con la vela, non giri, eh? No, con la vela. Con la vela ti sposti. Grazie. Chiuti panni, cazzi. Chiuti panni, grazie. Belli. Ok, adesso siamo. Adesso, va bene, giusti. Siamo un po' storti, però siamo un po'. Marco, giri sta barca, per favore. Ma ce l'ho messa per tutte la pagaia. E' che non riuscivo a girarle. E' già rotta la pagaia. Eh, dipende anche a me. Da che verso dobbiamo girarla? E' girare di 180. Eh sì, mettendo questi davanti. Però a me non gira. Io voglio fare una cosa, però aspetta. Mi sembra funzionare questa cagata. Andare a sbattere contro un'isola e sperare che si giri. Ehm. Cosa è la cassa più grande? C'è la cassa, c'è una in isola. Il contenitore. Uh! Ma dai, lo posso fare. Come l'avevo, una volta non funzionava come l'avevo. Lo posso fare il contenitore grande, aspetta. Femmo il cardine, ce l'abbiamo. La metto le cazzate qua. Eh sì, adesso possiamo puntare a fare il forno, dai. Eh, devo far seccare il cervello a sabbia, ragazzi. La sabbia? Guarda cosa ho fatto. Ah, io ce l'ho tre, Marco. Oh, ho contenitore grande. Cosa? Dammi qua. No, vieni qui. Eh, ma se ne serve un bel po', eh. Vabbè, ce l'ho messo, amore. Quale hai messo, amore? C'è qua. Andiamo all'isola lì davanti. Dai, che almeno me ne farmiamo un bel po'. Tanto ne faccio uno. Eh no, ma se sono due che rimano nel senso posto, rimani fermo. Ragazzi, il piano di sopra metto i cosi a seccare. Ma l'argilla l'hai usata tutta, sì. No, ce l'ho io. Non è che l'ho usata. Cioè, l'ho usata un po' per fare il primo mattone, ma ce ne serve... Due... Pippi, venite qua! Forse ce la faccio da solo, niente a posto. Rottami. Preso. Rottami... Eh, buono, rottami. Buono, buono. Ne ho nove adesso, quindi adesso possiamo fare il forno, poi. Eh, senza sabbia non facciamo niente. Che sete? Ho una sete bestiale. Sembra di stare a Rio de Janeiro. Un barile. Ah, preso. Non ho trovato comunque, che freddo sembra di stare in Bielorussia. L'ho... Non te l'ho linkata, mi sono scordato. Ma di stare in Bielorussia non lo dice. Dice Bettonia, che non so cosa sia. Sì. Te lo trovo subito, amor. Faccio sentire il live a tutti i nostri amici. Wow, che freddo. Mi sembra proprio di essere alla Bettonia. Che c'è la Bettonia? Non voleva sedere la Pogna. Wow, che freddo. Sembra proprio di stare nella Bettonia. Mi piace che l'ha trovato subito, vuol dire se l'aveva salvato proprio il preferito. No, vabbè, la chat delle caccate è Rosa, Vector e Franci. Quindi basta che apro la chat con loro. In questo caso era Franci. Mi piace Franci che devi sopportare queste cose. Eh, la Bettonia... Ma è lei che le fa come vuole sopportare roba. No, no, gliel'ho linkato io. Ecco. È la colpa mia. Andare qua giù. L'ho trovato su Instagram Story. No, Instagram Story. Come si chiama? Real. Reels. Real. Aia, mi mozzica. Bastia, non pazzi. Sempre che morde. Eh, non abbiamo un'altra però, eh. Non importa. Ci incastriamo. Ci incastriamo tanti. Guarda dopo la Creola. C'è un barile qua. Guarda che bellezza. Dopo la Creola. C'è un botto di roba qui sotto. C'è un botto di robe, sì. C'è un botto di robe, sì. C'è un botto di robe, sì. Ma è tutta argilla. C'è una cassa. Che sfida. Sono una barata di anguria, ma non c'è. Piedere possiamo fare la cassa grossa se bisogna. No, sì, assolutamente. Io devo svuotare roba. Io, ma è terribile. Eh, ci stiamo. No, devo creare l'ancora. Non ce la fai, Lied. Eh, no, ce la fai. Però mi sa che dobbiamo usare il proprio riso. Non ce la fai, quella monosso. Sì, sì, ce l'ha ancora... Usegeta. Aiuto. Stiamo spostando un botto. Eh, non fate quel problema volevo. E basta. Devo tornare su nella barca. Prima di mo... No, si è spostata la barca, stronzi. Che paura. Ragazzi, non sopra chi rimane a navigare a tenerla in bolla, per favore. E come fai a tenerla in bolla? Non è fai. Eh, vai al contrario con la barca, aia. D'altro possiamo tirare sulla vera. Quello sì. Beh, devi mettere... ...vincinare tutto, così ce l'abbiamo per dopo. Non trovo le ancore. Io ho trovato anche del metallo. E ho trovato un botto anche io. Ancora monouso, ok. Vabbè, l'ho creata, l'ancora monouso. Posto. Però attualmente non serve. L'ideale sarebbe uccidere il disgraziato, ma... No, attualmente non la uso, però l'ancora monouso. Non fermo, lo stesso. Ho preso un po' di sabbia. Amoro, quanta ne hai presa tu? Io ne ho presa due più dieci di argil. Una schifezza. Un altro mattone. Oh mio Dio! Che è? Lello, grazie Lello. Grazie Lello. Devo rifarmi anche la... Grazie Lello per i 100 bits. La più bella qua. Dobbiamo allargare anche il sopra poi. Eh sì, adesso piano piano facciamo tutto. Questa è della sabbia. Per esempio. Ho un po' di semi, li metto giù qua, nella cassa. Volendo possiamo fare un altro piccolo terreno appena arriviamo. Eh ma servono quelli grossi tanto, quei semi. Lo schwar. Ragazzi aiuto! Oh mio Dio! Che l'aranas! Niente, non posso più scendere, moro. Tanti auguri. Eh ma anche io, più o meno. Eh? Ecco, d'esta cosa. Esiste il sonar? Boh. Hanno aggiunto un sacco di roba. Boh, magari sì. Ho visto prima le cose del crassino, hanno aggiunto veramente cose carine. Sì ma probabilmente andando avanti... Magari per trovarle robe ti danno il sonar. Cioè più o meno c'è... Cioè devi fare il radar per... C'è l'arnia anche che non c'è. C'è l'arnia, sì. C'è l'arco? C'è l'arco? C'è l'arco. Prima uccidevi gli animali e non serviva a niente. Adesso c'è la pelle quindi ti puoi fare lo zaino. C'è un botto di foglie che non ce ne faccio un cazzo. Le butto via. Ragazzi il fiore bianco e il seme bianco servono a qualcosa? Per il colorante. Se vuoi fare una cassa apposta per i fiori. Vabbè. Eh ma adesso non la... Le metto nella cassa lì e poi dopo... Se li esano i materiali fanno un'altra cassa grande. Contenitore. No volevo... Eh serve un licotto di metallo, niente. Devo fare la fornace per forza per fare l'ancora per la fissa. Eh ragazzi adesso faccio il... Ehm... Mordere i mattoni. Mordere i grai e la sabbia. No mi manca un sacco di roba. Vieni. Tutto quella che hai, anche l'argilla. Dammi tutto. Eh no. Metallo e pietra non ti servono. Eh per adesso no. Metto nella castamere... Turma pastirma. Metto questo. Questo faccio thumbs up. Adesso la ritrovo prima. Dopo che metti giù il mattone ti fa il thumbs up col polli. Se si è verissimo. Il re... Cioè i rottami servivano a qualcuno i rottami? Eh una tassata. Grazie a Zeigler. Grazie a Zeigler. Grazie a Zeigler. Grazie a Zeigler. Ho preso la barbabietola ma non volevo. Non c'è l'acqua qui. Eh maledetti pezzi di merda. Eh l'hai messa. Io la prima cosa che faccio... Fuori dalle palle. Stronzo. Poi uccidilo se riesci a morire. Ah qua c'è roba aspetta. Lo devo uccidere con... Lo devo uccidere con l'arco poi appena lo faccio. Ho preso un po' di roba. Adesso le prossime cose che fa... Eh bravo. Adesso le prossime cose che faccio... La fornace e il contenitore dell'acqua. Vuole la sabbia. Il metallo non l'abbiamo ricercato ma neanche aspetta. Tu l'argilla con le robe lì l'hai cercata. Mi ricordo aspetta. Il bolt è stato ricercato. La conchiglia. A volte lo faccio. Vogliamo muoverci? No a volte no io ho fatto il chiodo. Volete muovervi? Provo a cercare di girare anche la... Anche la dietra mi sa sai. No a volte non l'abbiamo fatto comunque. Lo faccio con io. La metà la no. 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 Ehm... Ah lo slime dovremmo fare ma serve sempre il forno lì. Ho preso la tazza d'argilla va bene. Può servire eh. Magari ti dà più acqua rispetto al bicchiere, alla tazza. Allora. Medallo no. Amici speriamo che stiate lo stesso guardando. Lo possiate seguire. E se non potete scrivere. Vedo che siete tanti comunque. Canna da pesca fica. Sveglia. Gancio ultra bello. E accetta della minchia. Poi le alghe. La ricercate. La puttana ti sarà pazzo. Vattene via. Fottiti merda. Ho fatto bene a insultarlo. Io sono mai scappato. Sì. Sono cose da prendere. Mi sali sopra? O cocchi. No? C'è la sabbia Marco. Perché c'è la sabbia a terra? Sabbia a terra? È possibile. L'ambigille. Ma non l'ho fatto io. Non è possibile. Ho già fatto i mattoni. Sarà quella che ti ho dato io che non l'hai mai raccolta. Ah può essere. Ma non è possibile. L'ho fatta qui tu e me con la tua. Eh ma raccogli la però. Ma ho fatto il... Eh adesso la raccogli comunque. Ma dove aspetta. Ma è qui la raccogli. Ma che è successo? La prendo io. Me ne sbatto Marco. Oh no. Che sete. Che fame. Orca buttana. Fammi mangiare le raffa. Dove se vuoi ci vuoi? Eh io mi muoverei però da qua eh. Eh sì se volete. Dai muoviamoci. Eh mettete il cibo se ce l'avete. Eh l'ho messo l'ho messo. Io vado. Navigando. Eh provo a ruotare se riesco la cosa. Passerà. Me ne metterò tutto nella cassa. Un pezzo di legno da lontano. Serve la pagaia secondo me. Non c'è vento. Per quello. No aspetta. Guarda volpirla come. Se ne andassimo di là invece. Qua nella cassa destra ci mettiamo i materiali. Quelli più comuni. Nella cassa sinistra ci mettiamo. Oh che caldo. Ma quanti ne devo fare? Eh no. Se ne serve molta di più di sabbia di argilla. No serve. Provate a spingere un po'. Ma arriva che tronzo. Non serve altra sabbia ancora. Stiamo girando. No? Non le dovete spingere un pochino però che con la pagaia. Ma ha detto che farò la stessa roba della pagaia. Cazzo sono lento. No. Un imbegille. Moro mi dai la sabbia? Non ce l'ho più Marco. L'ho messa nella cassa. Era due di sabbia comunque. Vabbè faccio un mattone. Moro cerca di spingere un attimo. Devo incastrarci da lì. Ma non penso che. C'è con la pagaia fai niente. A vedere. Come si. Per graffi dovevo andare. Vai a sinistra. Provando alla sinistra. Dovevo andare di qua. Ma pari che a sinistra non ci muoviamo o no. Ci sono due pilastri del. Ah. Dimensione. Cazzo sono un imbegille. Allora. Non li vedevo. Non bisogna andare di là. Vai di qua gli ezzar. Vabbè. Eh amici poi dovremmo rifermarci perché. Ragazzi non ce la facciamo. Non è vero. Facciamo giusto giusto una fornace. Beh ci serve comunque la sabbia. Io mi fermerei comunque che non possiamo. Vai vai. Dai che la giro. Wow che caldo. Buonasera a tutti. Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro. Grazie Thunder Thomas. Grazie Thunder. Due ore e cinquanta. Orca miseria. Mezzaro puntato lì insomma. Dai. Dai. Andiamo più in qua. Io devo bere e mangiare. Dai. Dai. Anche una bella patatina qui. Ancora un pochino. Poco poco poco. Poco. Ancora un po. Ok. Mi si è spaccato. Adesso. Vabbè ma ci siamo. Adesso riempio la cosa. Ma cos'è quel cacone lì? Riempire tutta l'acqua. C'è uno stronzone di cacca sull'isola vabbè. Non ci siamo andati per niente. Io l'ho detto prima. Ho detto. Non c'era. Non c'era cassa. Io sono pieno di legna ragazzi. Volete la legna? Chi è che la raccoglie? C'è veramente tanta eh. Mettila nella cassa. Dov'è? Nella cassa con la sinistra ci sono i materiali comuni. Quella a destra le robe un po' più ex. Non abbiamo legna. Non è vero. Al contrario forse. Sì. In quella a destra ci sono i materiali comuni. Metti la legna lì. Bello. E due ne posso mettere. Metto 40. No ma piglio io ho un mondo preoccupare Marco. La consumo tutta adesso. Ok. C'è un barile. Vabbè. La cattiamo. La cattiamo. Ma quello no. Quanta roba. Anche quello lo voglio prendere. Vieni da me. Vieni da paparino. Vabbè. Quello lo la cattavano. Non lo speccare. La patata mettiamo qui. Mi bagno. E questi mi bagno. E dov'è? E basta. Quello non lo prendiamo ormai. No Marco. È perduto. Non importa ragazzi. Ho finito la mia Marco. Farmo come un farmino. Te ne do altra. Vieni. Ass. Metto ass. Nella cassa. Anche la plastica no? Insieme al. Un botto pure di quella. La metto qua. Nella prima cassa. Devo fare i chiodi con i votami. I votami mi servono. Ecco le foglie mi hanno già stufato. Le voglio mettere da qualche parte. Separati dagli altri materiali. Perché mi dà fastidies. Assurmalo in corde. Eh ho trovato le corde ma anche lì. Un po' non è che ti servono così tanto queste corde. Allora. Luca cordemolo e mottezzemolo. Dai seccatevi. Chiedo intanto. Mi serve la legna Marco? Dove è la mia legna? L'ho già messa nella cassa. Ancora dico. Ora la devi raccogliere perché questi 20 mi servono a me per farmi le robe. Senti questo pezzo di fango. Ma se io mangiassi questo? Servirebbe un po' di fango. Ma quella perché non è ancora cresciuta io mi domando. Mangio una noccia di cocco. Molto buona. Yum. Gamu gamu. Non c'è vuole di avere parte dell'altrata con l'isidenta? No. Eh magari l'hanno introdotto ma non credo. Va bene. Sì no se ho visto che ci sono le robe per rinforzare. Provolons. Le gazzate però. Forse ho fatto un errore. No non dovrei. Devo annaffiare anche. Mottone è zecco. Me ne manca uno e poi vi sistemo il pub. Carlettino. Ottimo Marco. Il pub è bello sistemato. Marco devo mettere la legna qua eh. Che sennò non si cuociono le cose eh. Aspetta che adesso devo fare la cosa più importante. Eccola qua. La fondue. La fondue de merde. La metto qua sotto. Vi piace qua? Mettela di materiale sì sì. Dove indica il tuo dito. Bravo. Thumbs up. Bravo thumbs up. Dai serve la legna nelle cose Marco. Eh la sto prendendo. Non è vero non c'è un cazzo. Cosa? La metto io la metto. Ah. Pensavo nella fornace intendessi. Ehi pensavi. Pensi sempre. Meno male. Eh no. C'è gente che non pensa al mondo. Preferisco essere tra quelli che pensa. Sei tra quelli che non pensano Marco. Pensi di pensare. Allora la fornace. Anche qua nell'acqua serve la legna. Eh non ho più io. Adesso arriverà. Tanto qua adesso. Adesso i raccogli. Non arriva. Funzionano. Quelli che non hanno. Ordei. Facci scone. Ma c'è Twitch oggi che ha un sacco di problemi. Potremmo che li risolvano per stasera. Oggi è un eufemismo. Eh ma oggi molto più del solito. Allora dai. Sì. Qua Marco metti già. Metto già a cuocere il metallo. Allora da qua possiamo fare. Sì il metallo. Possiamo fare un sacco di roba. E io ne farei un altro. Infatti adesso voglio comunque tanta sabbia. La fornace la volta scorsa l'abbiamo fatto tipo dopo tre settimane di live. Io me. No la prima volta. La seconda già era molto veloce. Ramonzo mi sono arrivate le tue chiuffie. Mi piacciono le donne. Vanno anche su smartphone. Ok. La prossima iso ci fermiamo. Non è appena. Io sono lo chef. Lo chef troni. Ma sono il che. Ma su. Minchia. Tutti. Eban culo. Ma sfondata cosa. Eh bastardi. Ok. Oh allora cosa siete FK qui? Non sono FK. Stavo vedendo cosa va a costruire. Ah l'ancora grossa devo fare. Cos'è questa roba? Acqua sudata. La butto via. Mi servono altri... Assi di legno. Ah la caritas. Ecco cosa devo fare. Stavo andando verso sbagliato. E vedi che serve. Tutto ci porta alla sabbia. Allora abbiamo un lingotto di metallo. Cosa facciamo? Eh un cazzo. Il cozzo di metallo te lo tieni per adesso. No se volete faccio già l'ancora. Io farei più. Vabbè sì. Ci sta l'ancora. Ci sta. Sì. Perché volevo fare il contenitore dell'acqua. L'ancora devi sfondare un... Una piattaforma qui. No come funziona a fare il... Cioè io qua devo avere il... No il lingotto lo devi ricercare uno prima. Quindi lo sprechi quello lì. Ok ricercato. Adesso posso apprendere un sacco di roba. E apprendi... Faccio tutto? Sì. Apprendi sì sempre tutto devi fare. Ragazzi mi prendo questo. Avete messo già a cuocere? Abbiamo la griglia migliorata. Sto per mangiare infatti. Però vi metto... Vi metto... No le patate le avevo già messe. La mangiate qualcun altro. Quindi niente. Vi metto a pescare. Che roba comunque cotta. Grazie Corvo. Ti tocco sotto. Possiamo fare la griglia volendo. Ah il barbe è que. Dobbiamo farlo quello. Quella è l'ancora. Poi siamo post. Oh c'è l'isola davanti a noi. Aspetta andiamo là. Tanto un ancora monouso ce l'abbiamo. Avete messo voi? Piammite col pesce. L'aumento di volume che avete fatto in dieci minuti. Ma non vedo. Non è possibile smize. Il saluto a mia mamma. Magari Twitch sembra che sta sbarallando. La griglia dobbiamo fare più avanti. L'aumento di volume che avete fatto in dieci minuti. Sì no. Gli ho già detto. Sì. Oh è quositi vai. Vuoi mi della zattera? Ah. Credo sì. No io l'ho inteso come. Abbiamo già la zattera della grossa. E anche io volumi audio. Perché se no era volume. Sì in effetti. Marco fai un po' di luce da mettere anche qua sotto. Eh serve sì dovrei farcela farla. Sì no ma dovrei dovrei riuscirci. Serve il metallo ma ce la dovrei fare. Ma lanciarete a che serum? Ok abbiamo un altro metallo. Lo metteremo nella cassa. Per curare gli animali tipo. Non mi ricordo. Come l'ha data? Ah è qua. Abbiamo un metallo fatto. La griglia? Allora farei la griglia. Fai la griglia. Fai due metalli. Una corda e un chiove. E l'ho messo nella cassa il metallo. Va beh la faccio io. Aspetta. Fate la luce voi. E la luce era aspetta. E' l'alterno. Dove è il metallo? Non è rotta. Ah ma uno ne avete fatto. E' un metallo. Ah no facciamo ne un altro allora. Si pregono per ricercare uno per. Per fare lì. Eh sciacca. Grazie sciacca. Grazie sciacca. Stavano andando verso l'isola. Ci sbagliamano il punto. Ragazzi come si faceva il metallo nella fornace che non mi ricorda. Mettendo su il metallo Marco. Non me lo fa forse perché sono al contrario. Si lo metterà in mano e ce lo piazzi sopra. Non me lo fa. Marco c'hai il metallo in mano. No ma questi sono i no avevo i rottami. Stronzo. Come si fa il metallo scusami. Non ce n'è più il metallo. Ah ecco. Ok abbiamo l'ancora. Faccio la colla intanto quelli slime. Testa di cazzo. Ah io adesso lo ammazzo. Faccio l'arco solo per lui. Siamo fermati? No. Sì. Sì se ce l'ancora. Intanto mi tocca a care i pesci. Ottimo. Che può fare? Vado a scavare. Ma non ci sono le casse. Le palla. Le casse le trovi più nelle zattare. Eh prima l'ho trovato. Grazie buon Fabio. Grazie ma se uccidiamo il... Lo squalo. Ho trovato il rame e lo squalo mi ha morso il bus. Dai uccidiamolo Marco. Avvicinati ambicille. Tu stai. Ahia. Infame. Vieni qua. A buco di culo. Ma il rame serviva comunque dopo mi ricordo. Ahio che bastardo. C'è un botto di roba qua sotto. Eh per quello volevo ucciderlo. Sacco di roba. Ahia. No ma non è fattibile. O lo attiriamo da sopra la barca. Venite sopra la barca. Eh si può attirare infatti. Ahio. Marco ma non stai attento. Era qui e era. Eh l'ho visto. Mi sono dovuto fare il... Ma come l'hai visto che eri girato? Eh l'ho sentito e l'ho anche visto passare. Perché passava attraverso la zattera. Mi sono dovuto rifare il gancio che mi era finito. Allora dov'è? Metti a bagno i piedi Marco. Farò sta. Perché questo si infila nelle rocce e mica lo vedi. E di Eza non sei vicino a noi tu però. No io sto sopra. Eccolo. L'ho preso. Io no. Vabbè adesso si dovrebbe girare. Se lo colpisci prima che ti morde non ti fa danno. Ah dove è andato? Ma mi ha missato completamente. Ma che sta mordendo. Ma va a caso? L'ho colpito. Ho travesse. Fa già qualche riga eh. Vedete che gli piace la fi. Aspetta che metto qui. Avete rim... Ma chi è che sta mangiando in continuo? Di mezz'ora che devo mangiare vado lì e... No è che le sto togliendo e cuocendo altre. Eh ma c'ho il pesce io. Fammi mettere il pesce. Ostia. Ma aspetta vedi giù a cacciare adesso. Sono qua. Io ho poca vita. Eh io ho ancora un altro resisto. E ma va da voi. Ok. L'ho puntellato. Vai via Moron. Ah no ma non mi ha morso. Ok. Ancora non mi ha morso. Colpito. Per cosa appiccicosa. L'ho missato. Sì metti altra alga Liezer. Alga. Giusto. Hai fatto un altro di metallo Liezer prima? Ne abbiamo due di lingotto. Perché altrimenti fai il lingotto. Non fare lo slime. Non c'è. Non abbiamo metallo. Adesso quando uccidiamo lo squalo poi lo raccogliamo. Colpito. Ancora due volte. No l'ho missato ancora non ci arrivavo. Sono un mastro aziccatore. Guarda. Tac. Tac. Colpito è morto. Prendiamolo. Ti ha rotta la pastella. Prendi tu. No la pastella no Marco. Porca misera come faccio a fare le cose ora. Ma no magari non sto sott'acqua a fare sta roba. Vengo a mettere. Metto il pesce crudo intanto nella cassa. Sono quasi tentato più avanti. Se abbiamo le robe di farmela di metallo. E' ci vuole il metallo. Eh ma è quello il fatto. Sto andando giù a raccogliere le cose. Poi dopo tutta l'argilla e la sabbia datela a me. La sabbia serve anche per fare il vetro eh. Eh no ma infatti voglio fare il contenitore del... Voglio fare il coso dell'acqua. Dell'acqua sì. Esatto voglio fare quello d'acqua e poi rifare un'altra un'altra fornace. Ok ho trovato tre metalli metà metalli di metallici. Ti poteva mettere la testa di scuola di testa. Sì l'abbiamo veramente fatta già grande. Siamo già un bel pezzo. Eh ma perché sapendo già come si gioca. Sì. Abbiamo rottuto il pub. Quando diventi competitivo anche se non è che c'è proprio bisogno. Ma è lo spaccone. No non è tanto lo spaccone. Cioè più o meno sì però non è lo spaccone. Nel senso che ti deve flexare che è più bravo. E' semplicemente quando sei bravo a fare qualcosa e lo fai anche quando non c'è bisogno. Cioè quando traiardi... Eh ma tecnicamente è anche lo spaccone. Quando sei competitivo non è quando non c'è bisogno in realtà. Quando non c'è bisogno si dice che cazzo traiardi che è una casual rompipalle. Sì sì quando ti impegni anche quando non è necessario. Esatto sì. Cioè tipo sei a calcetto... Tipo sei Ronaldo vai a calcetto con gli amici così al campetto così e inizia a fare i giochi e tutti i trick. Ho trovato cose nell'isola. Dobbiamo fare un'altra fornace. Stai facendo il chad sì un pochino sì. Ma con gli ananas. Ma la prendo l'ananas. Sono fiori ma boh vedete voi quei fiori. Ma non c'è più niente eh. Sicuro un'altra fornace. E no l'altra fornace infatti adesso... E quanta sabbia avete? Quanta roba... Ehi no tra l'altro sono metallo io però. Non c'è più niente già. Abbiamo preso tutto. Allora fatemi metterlo pisce. L'ho mangiato crudo ma sarò stupido. Quanto mettiamo queste così? Ma la plastica qua chi è lo stronzo di merda eh? Ah io la mia ce l'ho ancora in inventario. Infatti non so dove metterla. L'asse di legno. Un asse di legno. Questo è sempre gli ezzar. No no fidati no perché... Esatto non mentire. È lì da almeno mezz'ora quella a venti di plastica. Ah sì eh. No il venti di plastica c'è dall'inizio da quando abbiamo fatto la cassa. Ma nella cassa sbagliata. Ma no l'abbiamo fatto quando abbiamo creato la cassa. Come faceva se la cassa sbagliata? Sì. Eeeh... E l'ancolo. Eh no c'è di nuovo lo squalo ma questo è un pezzo di merda. In realtà ho fatto il giro dell'isola e non c'è più niente. Ma io non ho più sabbia ragazzi. Ma è sotto l'isola. Anzi non ne ho proprio presa di sabbia per le robe. Sì no sotto l'isola ho fatto il giro. Mi ha mozzicato ragazzi muoio. Mi semino l'ananas adesso va? Vogliete qualcosa che metto l'ananas? Eh beh c'è tutto acquaccio l'ananas. Dobbiamo fare anche il depuratore grosso. Dovremmo fare la cassa grande. Ma buttali via Marco. Che ci servono. Ma voglio fare l'ananas. I semi di ananas. Ora mi mangio questa tilapia Marco. Non mi serviva. Beh faccio la cassa grossa adesso. Se si può fare easy se no. Corda. No non muore da strofa. Cardine. E va che roba. Poi. Prossima volta. Facciamo degli alloggi anche. Sotto non c'è più niente. Possiamo anche muoverci. Ho facciato la patata cruda. Sono proprio un pezzo di merda. Tiriamo via l'ananas. Amici i materiali li sposto nella cassa. Grossa. Quante alghe abbiamo però. Può vivere in questa maniera ragazzi. Il rame. No il rame dove lo metto? Il rame lo metto nella seconda cassa ho messo il rame. No è l'argilla questo. Dov'è il rame? Il rame lo metto qui. E qua. No 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 no. Tolliamo le pippe. Sto morendo. Sto morendo. Devo bere. Marco purtroppo ho bevuto tutta l'acqua. È proprio un bastardo. Perché arriva tutto fia. E Marco avevo set e mi son fullato. Ah è l'asse di legno. Cribbio Marco. Sistema un attimo le casse che non ho finito. Cioè in realtà più o meno sono sistemate. Materiali a destra. Nella seconda ho messo il rame. Mettiamo gli altri materiali del mare. Ma credo sia solo estita. No si può fare il carburante ha detto. Si ha detto si può fare il carburante. A me ne dobbiamo fare un altro di acqua comunque. Così uno si sazia. Vabbè dobbiamo fare il depuratore. Eh voglio fare quello grosso. Lo slime non l'avete ricercato vi? No. Ho un lingotto di metallo. Non lo vado a ricercare. La pietra aveva uno stack l'ho messo nella cassa di merda. Ok adesso possiamo fare la bottiglia d'acqua. Le pinne. Il... Che cazzo è questo? Il retino utile per catturare gli insetti. Animal Crossing è diventato l'arco. Possiamo fare Marco. Sì. E la pentola. Ah la pentola era ficca era. Ci potevano creare le belle cows. La serve vasetto via. Amici ma il metallo visivamente com'era? Metallo è... Ne ho una marea io di metallo. Ma tu dici i rottami eh? No. Metallo. E' una roccia tipo ma con delle venature. Ma l'ho messo nel contenitore. Vedete? Ah non ce l'ho proprio io. Mi sa che non l'ho trovato adesso giù. L'avete messo nella cassa? No. Il retino. Sì la bottiglia è utile però adesso... Tanto serve solo plastica in realtà. Ciao Arne. Amici dobbiamo fare un altro lingotto di metallo. Eh stacco. Perché ne avremmo avuti già due. Solo che ho dovuto fare la cassa. Eh io farei subito un'altra fornaccia per forza. Mi dovete dare sabbia e argilla ragazzi. Eh non ce l'ho. Io non l'ho trovata di sabbia e argilla. Ah aspetta argilla ne ho due to. Eh dammi perché. Io sabbia non l'ho trovato per niente adesso che ci siamo fermati. Infatti dovremmo rifermarci. Resta ananas che sto prendo io. C'ho lo squallo eh. Abbiamo cotto. Che fame che mi prenderà lo squallo ragazzi. Al retino giustamente ci catturi le api. Allora. Quella patata. Fammi vedere la bottiglia. La bottiglia. Anche la griglia. Quattro di plastica minchia. Quattro di tralcio appiccicoso per una bottiglia. Per quello servono due vedi. Eh sì. Ok. Allora cosa volete che faccia? Metarlo intanto. Fammelo cuocere qua perché è minghia. Ah no. Allora amici facciamo così. Eh la plastica. Fatemi cucinare la plastica. No fammi puntellare. No la sabbia era. Ragazzi avete già riempito il forno? Ma porca avevo appena detto. E mi serveva per rompere. E si è riempito il forno sì. No dobbiamo aspettare. Dove è la puntella? Tanto mi sa che serve la sabbia per fare il vetro comunque. Intanto ha otto assi per fare la puntella. Mi mortacci tua. Aspetta. Per di nuovo. Ma basta. Ma che cazzo. Ma fio tutto. Olè. Bravo. Delicatissimo. Quanto mi piace giocare a sto gioco ragazzi. Non le sei servito perché è vero. Ma io ho visto ma c'era Squadrons per PlayStation 4 costava 20 euro già tipo. Eh ma perché costava 40 di base. Eh ma porca vacca. Costava di più quello della WWE Playground che era una cacata. C'è anche FIFA 21. 49. Su PlayStation però solo su PlayStation. Su PlayStation che comunque vi arriverà anche su PlayStation 5. Quello sì. Con la versione next gen. Infatti credo sia andato veramente a ruba a FIFA. Credo sia stato il gioco più comprato su Amazon. Io ero quasi tentato sai. Per fare via. Per l'ultimo team più che altro. Però ancora. Ancora devo prenderlo per PC effettivamente perché ho il Pro adesso. Ci fermiamo su quell'isola ragazzi. Prendiamo altra sabbia. Ma siamo una piccolina. Eh ma a noi ci serve il fondale tanto. Tra l'altro mi è arrivato anche il monitor. Che mi ha detto mia mamma di sotto c'è un monitor. Sì. Cosa devo fare? Dovevo fare qualcosa. Ah dovevo fare il vetro. Ma per il vetro mi sa che serve la sabbia. Fammi controllare. Il vetro. Ma dov'è? Il vetro. Il vetro devi cuocere la sabbia. Eh ma immagino. Però volevo trovare effettivamente. Eh no. Non c'è la sabbia. Non c'è la ricetta. Cioè non c'è la ricerca. Non abbiamo l'ancora però ragazzi. Eh non lo sappiamo. Non abbiamo l'ancora. Eh mi serve urgente due assi e quattro di pietra. Veloci. Veloci. Quale sei? Eh. La pietra c'è nella cassa. Tieni. Quattro? Eh. Un'altra? No. Eh comunque. Anche a me con le cuffie queste qui. Eh ci fermiamo qua un po' distanti. Non importa. Ma con quasi un botto di roba. Con quasi un botto di roba. Io devo attaccare la pestona. Ragazzi mi mangiano. Eh. Ma qualcuno di noi si dovrebbe fare quella di ferro. Così ce lo leviamo alle balle. Eh ma ci serve un botto di roba. Eh lo so. L'ho attaccato tre volte. Dicevo. Con le robe da gaming. Le periferiche per il PC. Ti danno questo sconto per il Game Pass di... Del 40% per tre mesi. Quindi potete fare l'abbonamento al Game Pass anziché pagare 30 euro pagate... Aia. 17, 18 euro praticamente. Ma dobbiamo ucciderlo. Scemo. Sono Mastro Cacciatore. Lo sto deturpando di me. Perché l'ho colpito un botto prima. Dai avvicinati. Bugo di culo. Oh scemo. Cirla. La pazzone. Non è abbastanza rigato. Minchia sei rigato. Marco. Vieni qua. Naga Tomo. Ti sparo. Marco non ti farà attaccare tu. Lasciamelo a me. Sono un maestro della caccia io. Grazie MC Pedi. Grazie MC Pedi. Grazie per i due mesi. In turno. E addirittura. Bravissimo. Oh mio Dio. No. Non sei riuscito ad attaccarmi mai. Buco di culo. Dai. Avvicinati di nuovo che muori. Su. Eh non ho paura io. Ok. Ho due di rame. Non ce l'ho fatta. Cretino. Ti metto il pannolino. Andare a prendere l'ossigenazione. E' tranquillo. Grazie brain. Hola boys. E' morto. Mi si è rotta la puntella però. All'ultimo. Ma si è buggata. Continuo a menare anche se non sto menando. Ho dovuto cambiare e rimettere. Comunque è morto eh. C'è neanche un po' di sabbia per adesso. Ho messo il rame. Ah io ne ho paura un po'. E io il rame pure ne ho presi due. Il rame serve per fare le circuitazioni. Ho preso la pietra. Questa credo sia pietra. E la sabbia è proprio... Le pallette che le vedi sono dello stesso colore. Qua dietro c'è più roba però eh. Non l'avevo vista. Io ho sbattuto la testa dove? Alghie che anche queste servono. Quanto rame? E la sabbia? A me serve quella. Il metallo. Il metallo. I orari sono dalle 11 alle 13 e dalle 20 alle 21 tutti i giorni. Sì. Tranne il sabato. Il giorno di riposo. Anche la domenica è una domenica. Quello che è il messaggio di Mubot. Leggiti. Ecco. La domenica solo la sera. Più live extra. Martedì, giovedì e venerdì notte. Esatto. Allora oltre a quegli orari lì appunto ci sono. Vabbè più o meno. Ma sono anche segnate. Il venerdì sera c'è il Moro by Night. Dove è una live solo mia. Poi c'è invece il martedì con il Marchedì. Alle 13. È la live solo di Marco. E giovedì stessa cosa. Ma è la live di Yeezer. Yeezer on air. Oh c'è una cassa qua sotto. Ma c'è una cassa. Sì. La prendo io. Tanto io devo prendere. Dove prendere. Il Mubot ve lo scrive in privato. Se è stato già scritto in chat. E voi rifate il comando perché siete dei poveri disgraziati. Allora il Mubot anziché spammare nella chat di tutti. Ve lo scrive in privato. Allora io di sabbia credo di averne prese due ne ho. Sì. Sto menando da quando abbiamo ucciso lo squalo. Questa che cazzè? Sono argilla, rame, metallo e pietra. Poi c'hanno le conchiglie che neanche l'ho caccata perché sinceramente. Ma mi sa che servono le conchiglie. Eh ma ne avevamo qualcuna. Eh capito ma prendirle. Eh vabbè ma con l'ossigeno prendo le robe più importanti. Poi le conchiglie le prendo dopo un caldo. Ma le conchiglie guarda che non c'è bisogno, le prendi con la E le conchiglie. Eh ma appunto sono pieno. Prendono uno slot mi sa tra l'altro. Mi sa che non si possono impilare. Sì sì. Eh uno di sabbia. Ne ho tre di sabbia io. Ah io forse un po' di più ne ho... Ah non tranch'io. Tra l'altro siamo relativamente distante dal... Un pazzo non vedo. Spera per andare sott'acqua con qualche luce. Più niente? Ah qui è pieno. Ah qua che sono io. Questa è sabbia mi sa eh. Colore. Vergilla. Sabbia sì. Mi si è rotto il più più. No il più più no Marco. Cazzi il più più mi si è rotto. Eh ricordatevi ho usato il giveaway eh. Ricordatevi mancano ancora due settimane c'è tempo però prima l'ho fatto è migliore. Io ho chiesto la carta e non l'ho trovata per niente comunque. Io un po' sì no 4. Lo avete preso voi. Io ne ho 4 pure sì. Che ci faccio niente in realtà ce ne serve molta molta di più. Ho trovato metallo ne ho 8. C'ho 5 di rame. Eh mi sa che non c'è più niente. Ma vedo roba. Mi aspetta. Sarebbe da andare ancora più con me. Sono stanco ragazzi. Aia è tornato. Ragazzi è tornato di un problema. Sono lontanissimo. Non ho la puntella. E sono... Aia mi mozzica. Sono andato via. Sono sull'isola. Devo mangiare io. Non c'è un'altra ananas. C'è un'altra ananas. Un'altra ananas. Vabbè dai sono soddisfatto. Cioè volevo più sabbia però vabbè. Ok. Facciamo gli schizzinassi. Ma chi ha messo le foglie di palma nella cassa del cibo? Foglie di palma? Foglie di palma? Sì. Non è anche come sono fatte le foglie di palma. Quelle base sono. Le foglie. Ha messo Marco vuol dire che sta... No. Non l'ho mai viste. Ma come non l'hai mai viste? Le foglie non le hai mai viste. No. Non ho mai avuto foglie. Ma le foglie Marco. Ah si chiamano foglie di palma quelle basi. Foglie di fallo sì. Ma cretino ti ho detto mettono le foglie. Mettono le foglie nella cassa dei materiali prima. No ma era in quella del cibo. No. Allora non sono stato io. Perché l'ho creata io la cassa dei materiali qui. Ok abbiamo un po' di rame. Un po' di metà. Scusa le foglie normali sono foglie di palma. Beh. Da quando? Scusami. Si vede che sono foglie di palma. Ma non si vede se sai cosa sono. Io non so cosa sono. Ma sono foglie normali. Ostia no. Foglie normali sono quelle che mi hanno rinforzo. Queste qui sono grosse cose che sono. Foglie di albero normali non di palma. Ma non è vero. Gli alberi normali c'ha le foglioline. Le palme c'ha le foglie grosse. Io non le ho associate. Che ti devo dire. Fammi fare la regilla. Regilla. Gli alberi normali. Ma sono. Ma si datemi tutte le robe. Ah ma la regilla non si cuoce. Dammi a me non confermi. Però bisogna fare il ferro qua. Il ferro tocio lo metto io. Ma aspettate dobbiamo fare la benedetta sabbia. Continuate a rimpinguare. Non riesco a farlo. Dove ogni volta. Devo per la mara come spiace. No perché così almeno faccio l'ancora. Eh ma chi se ne frega. E non ancora serve per poi fermarsi. Siamo fermi ma fammi me. Eh no adesso ci vogliamo. Tanto non sarebbe più star fermo. Anzi no adesso chiudiamo in realtà però. Fammi dare con la salta. Siamo la mezz'ora che aspetto qua davanti di mettere sta sabbia. Ancora. Stavano tre lingotti di metallo. Ma qui c'è il piccione c'è mangiato tutto il pappone. Vai. Abbiamo un cardino? Non c'è l'abbiamo? Abbiamo un pannolino. Al cardino. E' truccetta fa il cardino. Non ce l'abbiamo lì. Grazie trucce. Ah scopriamo. Che cosa fa? Mi serve un lingotto. Eh mi servono quindi. Metallo lo metto qui. Servono legna serve. Serve quattro lingotti. Io ne ho nove adesso. Legna per tutte le fornelle. Eh ma è fatta adesso ci muoiamo. Qui. Ma i rottami li avete messi nella seconda? Eh nella seconda ci ho messo tutte le robe. No nella seconda. Nella prima ci sono tutte le robe. Più di. Come si dice no? Vai. Vediamo. La sabbia. L'alga non ci sta più. Vabbè. Io c'ho un lingotto di metallo addosso. Ma qua finisce il flusso e ricomincia di là. Ma è storto. L'gotto di metallo? Sì. Dammelo a me. Sto creando io tutte le robe. Oh. Gli assi mancano. Gli assi. L'ho detto. Eh c'erano gli alberi sull'isola. Sì vabbè. Cosa c'è qua? Roba appiccicosa e non c'è più spazio ragazzi. La sabbia me la prendo io. Mettiamo le cose. L'argilla e la sabbia datela sempre a me. Vabbè. Faccio da cassa. Vite la diamo a sto punto venerdì. Eh sì. Aspetta aspetta. Ma siamo sempre al contrario tra l'altro. Siamo andando al contrario. No è giusto. Non è vero. Scusate. Ah no ce li abbiamo qua. Non vedevo. Perché il coso non vedevo. È giusto. Vabbè. Ragazzi facciamo che stacchiamo. Sono riuscito a mettere la sabbia. Aspetta che metto giù in una direzione. Ok. C'era salva il mondo. Ho salvato il mondo ragazzi. Sono un eroe. Che bello. Sono un eroe. Che maruto. Che maruto. Che maruto. Che maruto. Sì. Tu povero. Amici oggi pomeriggio vi raccomando non c'è niente. No. Stasera c'è fasmofobia però quindi mi raccomando siete numerosi. Siamo con Gatto. Sì. Baccetto a voi e ai vostri parenti. Buon pranzo. Ciao amici. Ciao. Ciao belli.